è uno degli interventi, degli incontri che abbiamo organizzato nel nostro ciclo di incontri e prima di introdurre tutta la tematica vorrei cominciare leggendovi una citazione di Riccardo Petrella, che è il professore emerito dell'Università Cattolica di Lovagno. La citazione è questa se vogliamo vivere in un mondo di cittadini non possiamo accettare i processi di impoverimento su scala mondiale come il sistema finanziario che determina il valore delle cose. È predatorio, non considera altro valore al di fuori del rendimento dell'investimento finanziario. Ecco perché la finanza speculativa è creatrice di tutte le inuguaglianze e di tutte le predazioni dei beni della natura, come anche delle risorse umane. Ecco allora questo penso che sia una buona sintesi, un buon punto di partenza dal quale cominciare e spiegare anche il motivo che spinge insomma il Movimento 5 Stelle ad effettuare questo ciclo di incontri che appunto è il titolo Europa o Euro, opportunità o schiavitù. Quindi noi da qui partiamo e tenendo fede anche quelli che erano un po' impendi che abbiamo preso naturalmente in campagna elettorale dando una visione critica insomma della nostra presenza come paese, come Italia all'interno della moneta unica europea, all'interno dell'Euro. Naturalmente noi all'interno del nostro programma elettorale avevamo uno dei venti punti che era il referendum, proporre un referendum e chiedere alla cittadinanza la permanenza o meno all'interno dell'Euro. Noi stiamo lavorando naturalmente per seguire questo obiettivo di programma perché uno dei nostri punti di forza è proprio la coerenza, quella di stare legati a quelle che sono le promesse fatte in campagna elettorale e questo ciclo di incontri va a porsi proprio all'interno di questi che sono appunto i nostri principi fondamentali, quelli che ci hanno portato ad avere la fiducia del 25% dei cittadini italiani. Questo è il terzo incontro, noi abbiamo cominciato con un incontro dove abbiamo ascoltato dei professori, degli esperti in merito a questioni tecniche relative alla situazione attuale finanziaria ed economica nella quale ci ha portato la moneta unica e i professori all'epoca elencarono quelle che erano le posizioni neutrali nei confronti della permanenza o meno all'interno dell'euro. Lo scorso incontro che si è tenuto in sala delle colonne è stato invece un incontro che ha difeso, noi l'abbiamo chiamato incontro pro euro, quindi che difendeva la nostra permanenza all'interno della moneta unica europea ed oggi ho il piacere di presentare i redatori che introdurranno quella che è la loro visione in merito ad una visione critica, noi abbiamo definita anti-euro. Quindi inizierò presentandovi i redatori di oggi, alla mia sinistra abbiamo Luciano Barra Galacciolo che è un amministrativista del Consiglio di Stato e poi c'è il professor Emiliano Brancaccio dell'Università del Sagno, alla mia destra Antonio Maria Rinaldi che è il professore dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chiede di Pescara e in ultimo Claudio Borghi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Un altro che interverrà è appena arrivato Nino Galloni che è del Collegio dei Sindaci INPS. Gli diamo il benvenuto naturalmente, diamo il benvenuto a tutti magari anche con un applauso. Tra un attimo lascerò la postazione a Nino naturalmente perché ha il dovere di essere qui in prima linea con tutti gli altri. Dunque ho il piacere di introdurre il primo intervento del giorno che sarà quello del professor Antonio Maria Rinaldi. Dal titolo, diciamo così, provocatorio o quantomeno inizia a gettare le basi di quello che è il percorso che faremo all'interno di questa giornata. Ognuno dei redatori più o meno avrà una tempistica di 20-30 minuti per intervento. È un invito che faccio ex ante per restare all'interno dei tempi e quindi l'intervento vi darà un'idea un po' si chiama schiariamoci le idee, teniamoci quali sono insomma le situazioni attuali, vediamo di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando e invito appunto il professor Antonio Maria Rinaldi ad accomodarsi per fare la sua redazione. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui. Io la leggerò la mia relazione per un motivo molto semplice, non perché non me la ricordi, perché l'ho scritta io, ma poi per poterla anche visionare perché sarà immediatamente pubblicata sul web e quindi anche gli amici che non sono presenti potranno fruirne. E poi io sono sempre dell'ipotesi che è meglio lasciare scritte le cose, perché scriptamanent verba volant e siccome io ci metto la faccia su quello che dico mi fa piacere che rimanga, anche perché poi qualcuno in seguito non può dire che certe cose non le avevo dette. Vi ringrazio. Allora iniziamo subito a dire che io sono un europeista convinto, ma non mi identifico in questa Europa. Un conto è l'Unione europea e un'altra è l'Unione monetaria. Ultimamente troppi fanno voluta confusione nel accomunare l'Europa con l'Euro, prendendo predestuosamente per anti-europeisti chi combatte l'Euro. E proprio per ristabilire l'ordine delle cose mi sento talmente europeista da poter affermare serenamente che per poter salvare l'Europa ha bisogno urgentemente liberarsi dall'Euro. Gli attuali eurosostenitori sono proprio quelli invece che faranno naufragare non solo la moneta unica nel peggiore dei modi, ma anche lo stesso concetto d'Europa. Se oggi in tutto il continente europeo monta la protesta, è proprio a causa dell'appartenenza a un'errata stessa area valutaria, nata con il pretesto di unire un mercato comune secondo la sioma One Market, One Money, ma nelle realtà per creare un subdolo sistema superiore di governo al fine di estraniare le democrazie dei Paesi membri dai processi decisionali. Il mercato comune si è rivelato essere una farsa. In 22 anni di Maastricht non si è voluto uniformare neanche le aliquote IVA, condizio essenziale per l'effettiva libera circolazione di beni e servizi. Invece è accaduto qualcosa di diverso. Giorno dopo giorno i cittadini europei sono stati esautorati da qualsiasi diritto di rappresentanza. La maggioranza dei governi europei è stato completamente spogliato da qualsiasi strumento per poter contrastare la Commissione europea e da tutti i meccanismi tecnici predisposti ad hoc al fine di affidare al sistema delle regole, sempre più rigide, la conduzione monetaria comune, attivando un vero e proprio pilota automatico. Si è completamente interrotto il colgamento democratico fra cittadinanza e istituzioni e il potere è stato assunto da euroburocrati autoreferenziali non eletti, i quali perseguono interessi non condivisi e smaccatamente di parte, avendo preferito affidare il consenso ai mercati e non ai cittadini per la certificazione della correttezza delle scelte di politica economica a supporto della sopravvivenza dell'euro. Coloro i quali sostengono ingeniamente o in modo complice che i problemi dell'euro possono essere risolti con la vulgata del più Europa non comprendono o non vogliono comprendere che la via della revisione dei trattati e dei regolamenti non è perseguibile perché non produrrà alcun beneficio. Che potere contrattuale hanno i nostri rappresentanti se non riescono neanche a ottenere e disforare dello 0,1% il rapporto deficit-pill quando per anni altri hanno fatto i loro comodi e la Francia viaggia attualmente oltre il 4% e la Spagna verso il 7%? Da Maastricht ad oggi le regole di convergenza si sono sempre più rigidite e la dimostrazione più evidente è l'adozione del patto di stabilità e crescita del meccanismo di tutela MES. Essi certificano la volontà di estranere sempre più la volontà popolare dei processi decisionali affidandole a regime delle regole con un sistema punitivo che ricorda più i metodi usati nel Medioevo che nella società civile. Chi ora non ha compreso che sotto i nostri stessi occhi è stata modificata la natura stessa della moneta che sarebbe dovuta essere plasmata per andare incontro alle esigenze della realtà economica mentre è la realtà economica che deve adeguarsi alla rigidità della moneta? In questi giorni siamo stati testimoni di due affermazioni veramente suggestive. Enrico Letta ha detto che il PD è il baricentro della democrazia. Peccato che non abbia ammesso che per lui il fulcro del baricentro sia Berlino e non l'Italia, visto che, insieme al bravo Renzi, si è già precipitato più e volta dalla Merkel a fare l'inchino per accreditare i propri servizi e ripetere fedeltà assoluta. E poi il delfino Renzi che, come dice il nostro amico Bagnai, dopo il voto di fiducia alla cancellieri è diventato anche lui uno dei tanti tonni nella tonnara, lanciare la sfida a Grillo. Beppe, firma qui o sei un buffone? Premesso che Renzi è circondato da personaggi dentro e fuori del Parlamento che non scherzano in materia, sarebbe un'opportunità da parte di Grillo rilanciare la sfida con una controproposta. Però finché questo possa avvenire, il Movimento 5 Stelle deve prendere prima una netta e precisa decisione, sostenere senza se e senza ma il ritorno alla piena sovranità, non solo monetaria, ma che serve a far riguadagnare la dignità di una nazione che è stata letteralmente svenduta in nome di un liberismo finanziario che non ha tenuto conto degli interessi della cittadinanza e della maggior parte del sistema delle imprese. Solo dopo questa chiara scelta, condivisa da tutta la base, potrà andare da Renzi e rilanciare, se non ti impegni anche tu nel ridare al popolo italiano, il ripristino dei principi democratici e costituzionali, ripudiando la moneta unica e le sue regole non forgiate per il suo DNA, che stanno letteralmente uccidendo il Paese, allora sei un venduto anche tu. Se per queste mie affermazioni ora sono radditato come populista, allora si sappia che sono ben fiero e orgoglioso di esserlo, almeno mi differenzio dai maggiordomi, pronichini che hanno barattato il proprio Paese per un piatto di lenticchie. Sembra di assistere a una partita dove i giocatori segnano nella propria porta e non in quella avversaria e poi esultano pure. Abbiamo il dovere di rispettare i sacrifici dei nostri padri che hanno fatto risorgere quest'Italia democratica e repubblicana e l'obbligo, nei confronti delle nostre generazioni future, di non consentire che il nostro Paese diventi una irreversibile colonia del Nord. Inutile ormai negarlo. La frettolosa costruzione di un'area valutaria, concepita con regole di convergenza aleatorie e parametrate esclusivamente al debito pubblico e non anche ad esempio a quello privato e rapportata al PIL, a cui si è voluto affidare per il mantenimento un modello economico e non a riscontri nella letteratura economica, ha decretato il suo totale fallimento. Si sostiene che il presupposto per perseguire la crescita risieda nel pareggio di bilancio e nella riduzione pianificata dell'eccedenza del surplus dello stock del debito pubblico superiore al 60%. Signora, però, che per perseguire la stabilità dei prezzi, cioè dell'inflazione, si violenta costantemente l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sul pareggio di bilancio e, pertanto, va contro ogni logica della crescita, dello sviluppo, dell'occupazione e del mantenimento dello Stato sociale. Questo dogma è perseguito solo da 17 dei Paesi rispetto ai 204 che compongono il pianeta Terra. I trattati e i regolamenti europei sono illegittimi e il contrasto non solo con i dettami costituzionali di gran parte dei Paesi membri, ma contro ogni logica economica e del buonsenso. La Banca Centrale Europea non è poi un'effettiva banca centrale. Chi non l'ha ancora capito che è solamente la guardiana garante della stabilità dei prezzi e tutta la sua attività intesa a questo obiettivo? La partecipazione a questa area valutaria comune, che esprime non una moneta comune, ma bensì esclusivamente un accordo rigido di cambi fissi, non potendo monetizzare anche parzialmente i fabbisogni finanziari di uno Stato, considera, connannandoli, i cittadini alle imprese come i veri prestatori di ultima istanza. Questa non è democrazia, ma dittatura economica. Nell'audizione dello scorso 5 dicembre alla Commissione Finanza della Camera ho ribadito, senza mezzi termini, che l'Italia si deve far promotrice di una moratoria nei confronti del Fiscal Compact e del MES e non considerare l'articolo 81 della nostra Carta Costituzionale, che impavidamente è stata mortificata per il paggio di bilancio. Il solo rispetto del Fiscal Compact dal 1 gennaio del 2015 ci costringerebbe al riferimento aggiuntivo anno di 53-55 miliardi per la riduzione pianificata di un ventesimo dell'eccedenza del debito e di 39-40 miliardi per comprimere allo 0,5 tollerato il rapporto deficit-PIL. Non si sente nel Governo una sola voce che urli questa follia impossibile da rispettare. Non sono riusciti a raschiare dal fondo del barile un solo miliardo per posticipare di tre mesi l'aumento di un punto percentuale di IVA. Inoltre ho suggerito di approntare con urgenza un credibile e serio piano B per un'uscita ordinata e concordata, per evitare che l'inevitabile uscita avvenga in modo disordinata, infliggendo ulteriori pesanti disagi alla Nazione, nel caso in cui potremmo essere costretti a un abbandono forzato. Naturalmente, ho anche ricordato che a dispetto di quanto è sbandierato da Letta, il semestre di Presidenza dell'Unione Europea è puramente simbolico, in quanto privo di qualsiasi potere decisionale. E qui aggiungo anche se viene barattato come la panacea di qualsiasi cosa. Andiamo noi, il semestre europeo risolviamo tutto. Non conta assolutamente nulla. Cosa fare, perciò? L'idea rilanciata il primo dicembre a Genova dal V-Day di effettuare un referendum sull'euro non mi trovo d'accordo. E vi spiego il mio punto di vista. Inutile ricordare gli attuali impedimenti tecnici e costituzionali, ma anche se fosse possibile, visto la delicatezza della materia, saremmo investiti dalla speculazione internazionale e sarebbero annullati i vantaggi che si potrebbero ottenere in prospettiva dal ritorno alla propria sovranità. E poi, paradossalmente, si offrirebbe anche l'opportunità agli attuali sostenitori di o Maastricht o Morte, che attualmente ancora sgovernano, di porre in atto misure ancora più restrittive per contrastare le immancabili e prevedibili turbolenze finanziarie dei mercati nel periodo fra l'annuncio ufficiale del referendum e il suo esito. Inoltre, anche se si effettuasse un referendum per l'abrogazione dei trattati e pertanto dall'appartenenza all'area valutaria euro, in caso affermativo poi chi gestirebbe l'eventuale uscita? Letta? Monti? Renzi? O vogliamo riesumare Prodi e Amato, il tutto collabile regia di Napolitano? Quindi, per evitare che invece dalla nostra ritrovata moneta ci ritroviamo in tasca direttamente al marco tedesco, sarebbe molto più efficace trasformare le elezioni europee del prossimo maggio in un vero duplice referendum. Primo, per dare il consenso ai partiti e movimenti che realmente, e non per convenienza elettorale, sono per un chiaro ritorno alla nostra sovranità e poi per eleggere le persone che abbiano le effettive capacità per poter realizzare talo progetto. Questa è la sfida e la via giusta per vincere. Dobbiamo far fronte comune per incassare il risultato, perché la battaglia sarà durissima e siamo ormai all'ultima spiaggia. La casa brucia e non dobbiamo stare a guardare chi porta i secchi d'acqua, ma a combattere chi fa gli scambetti e chi getta benzina affinché l'incendio non sia domato. Chiedo chiaramente pertanto, e senza possibilità di equivoci, di attivarci concretamente per riprenderci le chiavi di casa, rivendicando a gran voce che preferiamo sbagliare con la nostra testa e non con quella degli altri, che continuano comunque in ogni caso a fare i loro interessi. Io sarò sempre in prima linea, fino in fondo, accanto a Claudio Borghi e Alberto Bagnà del Manifesto di Solidarità Europea e a tutti quelli che lavorano veramente per il bene del proprio Paese. Ora sto a voi decidere da quale parte stare. Grazie. E' sempre difficile intervenire dopo interventi così passionali e accorati. Io ringrazio il professore Rinaldi per le sue parole e per la sua analisi. Del resto lo stesso Movimento 5 Stelle aveva ascoltato le parole del professore, anche se naturalmente toglie un po' più tecnici all'interno della Commissione Finanze il 5 dicembre dopo il nostro invito. Naturalmente io, come dire, tutti questi incontri che abbiamo fatti fino ad oggi non hanno mai, hanno sempre avuto un taglio tecnico, un taglio post-ideologico, però mi piace sottolineare alcuni passaggi del discorso appena ascoltato. Quindi il consenso che in questi anni è passato dai mercati, vai passando quello dei cittadini, è una cosa che molto spesso chi ci segue magari può tenere, può veramente riscontrare in quelli che sono i nostri discorsi, quelli che sono i nostri atti parlamentari. Spesso veniamo criticati perché il Movimento 5 Stelle alle volte sembra avere una posizione ambigua. Io in realtà invito tutti quelli che oggi magari per la prima volta ci stanno ascoltando in streaming e per la prima volta hanno la possibilità di vedere veramente il nostro impegno, soprattutto a livello informativo e divulgativo, perché il Movimento 5 Stelle può lasciare veramente ai cittadini la scelta per aumentare quelle che sono le loro informazioni in relazione all'unione dei mercati e quindi a quelle che sono le conseguenze. È importante avere un cambiamento culturale, un cambiamento che sia informativo soprattutto nelle persone, nei cittadini comuni, perché noi non vogliamo un'Europa fatta di burocrati e tecnocrati, ma soprattutto un'Europa fatta di cittadini e di diritti per i cittadini. Quindi il mio invito è quello a tutti gli oggi presenti, quelli che ci ascolteranno, di fare un confronto, tra tutti naturalmente le forze politiche se avete il tempo di farlo, in ogni sede e in ogni occasione nella quale noi parliamo di Europa, ci sono alcuni deputati oggi qui anche del Movimento 5 Stelle e della Commissione Politica Europea, all'interno del Parlamento spesso ci capita di dover affrontare risoluzioni per il Consiglio Europeo quando l'ETA viene per esempio a riferire in merito a tale appuntamento. Quindi io vi invito con la massima tranquillità e soprattutto onestà nell'andare a leggere quello che noi proponiamo, quali sono i nostri discorsi all'interno dell'Aula e qual è la nostra coerenza, la nostra linea in merito alle situazioni che vengono proposte. Quindi spesso abbiamo chiesto una deroga del PIL, del patto di stabilità, quindi del 3%, alcune proposte che voi avete oggi sentito, magari alle volte se vi informaste magari all'interno dei nostri siti ufficiali e appunto i nostri atti parlamentari vi rendereste conto che qualche volta coincidono. Io vado oltre, come abbiamo tentato di fare anche il primo dicembre parlando di sovranità, vado oltre e vi lascio alla presentazione del professor Barra Caracciolo che ci parlerà dei profili di costituzionalità del vincolo europeo. Vi ringrazio. Buonasera, allora il tema che cercherò rapidamente di affrontare è poteroso perché implica una serie enorme di problemi, non tanto perché sia difficile arrivare alla soluzione, cioè stabilire se il vincolo europeo nella forma perlomeno che assume Damastricht sia contrario alla Costituzione non è difficile, è facilissimo, però occorre conoscere tutta una serie di cose che 30 anni circa di versione culturale attraverso una compatta sintesi e anzi analisi e anche commento mediatico hanno fatto sì che hanno desertificato il sistema immunitario democratico degli italiani. Rispetto al concetto di democrazia che è accettato in Costituzione, cioè è la democrazia redistributiva pluriclasse fondata sul lavoro come principale diritto fondamentale, questo è il concetto, questo è quello che dice la Costituzione, su questo non ci sono dubbi e se qualcuno avrà avuto il modo di vedere il mio libro, poi comunque mi sono dilungato in quella sede a portare la testimonianza diretta dei Costituenti su questa cosiddetta democrazia necessitata, cioè questa democrazia pluriclasse redistributiva il cui diritto fondamentale di vertice che è l'essenza della sovranità e la tutela del lavoro. Per cui mi accingerò adesso invece a darvi alcuni flash per arrivare poi a fare una cosa che mi sembra molto interessante, farvi vedere come gli stessi trattati ci potrebbero consentire una via di uscita dall'euro senza dover necessariamente mettere in contestazione l'intera appartenenza, l'intera partecipazione all'Unione Europea. Diciamo subito che anche volendo utilizzare un criterio formalistico di sindacato, di verifica della costituzionalità dei trattati, noi abbiamo l'articolo 11 della Costituzione, il quale articolo 11 non parla come io sento ogni giorno nei vari talk show, in varie altre sedi da parte di molti politici, non prevede che noi facciamo cessioni di sovranità, prevede limitazioni di sovranità, quindi queste possono essere delle compressioni, certamente di certi aspetti della sovranità, ma transitorie, mai finitive, perché la cessione è il distacco di una parte del diritto, del bene, della res in senso ampio, che viene devoluto a qualcun altro. Questa idea della cessione e quindi della definitiva perdita della sovranità è estranea alla Costituzione ed è piuttosto propria di un pensatore che l'aveva teorizzata che si chiama Von Hayek, sul cui pensiero si può fondare la comprensione fin da decenni di quello che è stato pianificato in questi termini. Allora adesso proverò a leggere la trattazione perché cercherò di darvi il più ampio numero di informazioni in un ragionamento compiuto, cioè in un percorso che riflette una serie di lezioni che ho ottenuto da Lewis. Allora, salto una parte per darvi immediatamente a giungere al punto. coloro che si ostinano a portare il presunto vessillo della pace e della solidarietà come connesso all'Europa non sanno distinguere, come impone invece il piano normativo, l'Unione monetaria dalla Unione Europea stessa. L'euro infatti è uno strumento non costitutivo della personalità giuridica dell'Unione Europea, cioè non è un elemento coessenziale e non è neanche un elemento costitutivo dello status di appartenenza all'Unione, come è reso palese dall'articolo 3, paragrafo 4 del testo sull'Unione Europea, cioè la Costituzione, cioè la fonte più alta del diritto europeo. Quindi coloro che associano Unione Europea e Euro, ritenendo che le due cose siano inscindibili e anche l'euro exit coincida con l'uscita dall'Unione Europea, non conoscono i trattati, più semplicemente. Piuttosto dovremmo cercare di capire qual è invece il clou dell'Unione Europea e noi, adesso vi risparmio la questione di quale dovrebbe essere il metodo di lettura dei trattati, non so se qualcuno di voi ha provato a leggersi dei trattati. Chiunque ci provi e non sia un raffinato, studioso di diritto costituzionale e comunque di diritto pubblico in genere, è dotato contemporaneamente, perché non basterebbe questo requisito, se non fosse anche dotato di solide conoscenze di economia politica, di macroeconomia, non sarebbe in grado di venirne a capo. Come è possibile? È stato scritto apposta così. Gli estensori, quel gruppo di banchieri che si sono chiusi in una stanza, come dice Winnie Godley, e l'hanno redatto, hanno concepito esattamente in questa maniera. Esiste una serie di bla bla bla, di enunciazioni a catena, bellissime talvolta, talvolta assolutamente criptiche, però è possibile in base a un'analisi fenomenologica, cioè andando a vedere l'essenza del fenomeno, ridurre a pochissime proposizioni. Io vi suggerisco come chiave di lettura l'articolo 3, paragrafo 3 del testo sull'Unione Europea. Quella è la norma chiave di tutto, da cui potrete spiegare e anche capire come sfrondare delle proposizioni che risultano enfatiche o procedurali, le norme congegno normativo, le norme apparato normativo. Allora, questo articolo 3, paragrafo 3, ci parla tra l'altro di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, incentrata sulla stabilità dei prezzi. Questo fortemente competitiva, sostanzialmente, voi lo sentite riecheggiare ogni giorno con la questione della competitività. Io non entrerò in questo tema perché è dibattuto negli economisti che fanno notare le contraddizioni del vincolo monetario e della produttività, sono la parte più solida, però voglio soltanto rammentare che quando si viene al dunque nel contesto fortemente competitiva del trattato è competizione fra stati. È esattamente quel tipo di competitività fra stati che Krugman ha evidenziato come essere un consenso dal punto di vista logico ed economico. e lui fa, vi risparmio anche tutta la questione di permesse, anche complessa, che fa Krugman, però lui dice che gli stati non sono come le società per azioni. Nessuno comunque, anche se così fosse, penserebbe di valutare la produttività e la competitività della Pepsi-Cola o della Coca-Cola in base al fatturato che realizzano sui dipendenti dell'impresa concorrente. Cioè quanto la Coca-Cola vende alla Pepsi e quanto la Pepsi vende ai dipendenti della Coca-Cola. Ecco, è più o meno l'idea che si sta creando, o meno non che si sta creando, che si è creata in Europa grazie anche alle violazioni dei trattati che sono state perpetrate dalla Germania che in una certa parte, la parte meno visibile ma altrettanto ricostruibile, dell'atteggiamento tedesco basato sul fatto che ha sfruttato i meccanismi in un'area valutaria imperfetta e ha giocato sulla svalutazione dei tassi di cambio reale. Però adesso, tralasciando questo tecnicismo, era soltanto per dirvi che l'articolo 3, paragrafo 3, quando ci parla di Europa fortemente competitiva, finisce per inviare a questo concetto che precede l'Europa, nel senso che Krugman quando ne parla, parla di una dottrina della competizione fra stati che è assolutamente, diciamo, sballata dal punto di vista economico, che finisce, che aveva già influenzato l'intero ambiente delle relazioni internazionali e economiche. Sintetizzando, in un contesto normativo istituzionale come quello delineato dai trattati e quindi nella portata confermata dalle politiche attuative poi seguite univocamente da Commissione e Consiglio, cioè dagli organi principali di governo, la prassi è importantissima per far capire un trattato, un trattato di durata, in base alla enorme forza che ha la prassi nel diritto internazionale, diciamo, fa emergere la vera portata normativa, molto di più che con quelle che possono essere leggi ordinarie nazionali. Quindi abbiamo, da questa, diciamo, prassi e dal testo normativo e dal contesto creato sistematicamente, abbiamo che l'economia sociale di mercato non può riferirsi sul piano normativo letterale e sistematico, non può riferirsi alla instaurazione della concorrenza perfetta, obiettivo neppure larvatamente riconoscibile invece nella disciplina di quella che dovrebbe essere la concorrenza all'interno dell'Unione europea ricostruibile degli articoli 101 e 106. Infatti, per necessità logica e correntemente sistematica, il principio in questione, poiché gli articoli 101 e 106, quelli che voi forse avete sentito parlare nella versione della creazione, per, diciamo, processo discendente dall'Europa del diritto antitrust, praticamente il monopolio in realtà viene dinamicamente considerato, che è una tipica teoria che fa capo alla squadra di von Mises e von Hayek, e viene ammesso a certe condizioni. L'oligopolio viene normalmente ammesso se non porti a abusi di posizione dominante. Per il resto è solo allo Stato che viene preferibilmente proibito di essere monopolista, quei monopoli cioè che la Costituzione prevede nell'interesse generale. Quindi, diciamo, l'interesse generale è brutto per la concorrenza, mentre invece quando sono posizioni private di oligopolio, che sono le più insidiose, le meno controllabili nella loro espansione dinamica, invece in quel caso si va a vedere quali condizioni semmai ci stanno, possano configurare l'abusività. Allora, questo significa che non c'è stata una preferenza, un'opzione per la concorrenza perfetta, ipotesi abbastanza scolastica, per così dire, che comunque avrebbe portato a profitti che si azzerano nel portare i prezzi a un abbassamento generale. Questa è l'idea della concorrenza. In realtà, a cosa si riferisce questa economia sociale di mercato fortemente competitiva? Si riferisce a questa concorrenzialità dalla forte concorrenza, si riferisce all'agire della legge della domanda e dell'offerta, ma da dove noi ammettiamo che esistono dei forti rendite, data la struttura del capitale, come dice lo stesso Hayek, noi dobbiamo ammettere che questa benedetta legge della domanda e dell'offerta nella previsione europea programmatica si applica soltanto al lavoro, cioè si applica soltanto al lavoro considerato come merce. Questo già ci basterebbe sotto il profilo di costituzionalità perché gli articoli 1 e 4 della Costituzione escludono il concetto della merce esplicitamente perché vogliono costruire una società in cui non ci si torni più sopra. Quindi l'Unione Europea riapre il discorso del lavoro merce che la Costituzione sembrava aver chiuso. Non soltanto, ma si afferma pure il principio del controllo sull'inflazione, cioè sulla stabilità dei prezzi. Questo principio è il principio supremo dell'ordine economico impresso dai trattati e lo si può rivedere in tutte le previsioni istituzionali principali. E questo può avere spiegazioni solo in uno schema programmatico culminante nel funzionamento inevitabile di qualunque area a cambio fisso, di qualunque area valutaria, la quale, attenzione questa è l'altra particolarità che ci porta all'essenziale, quella di considerare la parte essenziale dei trattati, funziona l'area valutaria in sé sul solo istituto proprio di una banca centrale indipendente pura e che si unisce all'esclusione espressa e rafforzata di ogni forma di trasferimento fiscalizzato tra i diversi Stati partecipanti dell'Unione Monetaria. Io invito sempre tutti, quando iniziano a parlare dei trattati, ad andarsi a leggere gli articoli, non solo il 123, quello che vieta l'acquisto diretto dei titoli alle banche centrali e in particolare alla BCE, ma di andarsi a leggere l'articolo 124 e gli articoli 125, perché l'articolo 124 sostanzialmente proibisce qualsiasi residuo ruolo di tesoriere alla banca centrale, al sistema delle banche centrali e l'articolo 125 del trattato, se lo andate a leggere, ma non c'è bisogno neanche di sforzarsi troppo una volta che uno lo sappia in anticipo, proibisce espressamente i trasferimenti all'interno dell'area. Si dice tanto che questa è la solidarietà europea, non solo non era prevista, ma è stata espressamente vietata, quindi qualsiasi ulteriore discussione su questo dovrebbe avere almeno il realismo di partire dal fatto di essere coscienti che la solidarietà nell'area valutaria dell'euro è stata esclusa, è stata vietata, che quindi se la si viete in anticipo conoscendo quello che significavano le aree valutarie, perché c'era se non altro l'esperienza teorica e pratica degli Stati Uniti, voleva dire che questa era un'intenzione precisa per arrivare a un certo modello sociale. E questo modello sociale è quello che prevede quello che dicevamo prima, cioè la lotta mercantilistica fra gli Stati. Chi vince la lotta mercantilistica si trova che gli sta benissimo il trattato, chi perde la lotta mercantilistica si trova in un inferno senza nome, perché c'è tutta questa serie di divieti e di vincoli che sono i principi massimi del trattato. Al punto, cioè questo, che i criteri attuativi, questo del mercantilismo intraarea monetaria, i criteri attuativi dello schema dei trattati, ma non i trattati in sé, attenzione, tollerano un surplus delle partite correnti per ciascuno Stato nella ragguardevole misura del 6%, non so se avete saputo che la Germania l'ha violata recentemente, senza però, proprio perché non c'è una norma generale come per il deficit eccessivo, il deficit di indebitamento pubblico, senza prevedere però un sistema sanzionatorio efficace su questo punto, che non può essere quello di aggravare la posizione fiscale del Paese come nel caso dell'indebitamento, evidentemente dovrà essere qualcosa di diverso, adesso non scenderò nella questione della clearing house chinesiana su questo punto, non c'è, comunque sia, non c'è questo sistema. Accornamento ulteriore di queste conclusioni, vi è la conferma della risibile Claudia, ecco questa è un'altra cosa quando ci troviamo di fronte alle nostre sciagure di alluvioni, terremoti, ve la conferma della risibile clausola solidaristica dell'articolo 222 del testo sul funzionamento dell'Unione, quella l'unica solidarietà prevista in Europa, andatevela a vedere, sta nell'articolo 222, il quale dice nel caso di attacco terroristico, perché questo non è neanche il Mastic, l'hanno introdotta dopo, si pensava che facevano l'attacco con le armi chimiche o chissà che altro avrebbero potuto fare, o calamità naturale o provocata dall'uomo, noi ce ne abbiamo tante di calamità naturali, anche perché il nostro territorio, al nostro territorio è mancata per vent'anni, ma questo è verificabile non in base alle impressioni, in base allo studio Giarda, basti andare a vedere quali sono le spese in conto capitale per investimenti che sono, l'andamento di queste spese a partire quantomeno dall'introduzione di Maastricht e della convergenza, un territorio lasciato per vent'anni nell'abbandono, piove, è normale, è un evento naturale, diventa una tragedia, perché lo Stato viene dissolto in un acido in questa volta, non in acqua, viene risolto nell'acido del liberismo e del mercantilismo. Comunque, la solidarietà è prevista, innanzitutto nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Unione Europea, cioè praticamente nulla, è una somma irrisoria e oltretutto sono somme assegnate, quindi le disponibilità sono minime, tant'è vero che noi quando chiediamo qualche volta l'intervento solidale dall'Europa con dei fondi particolari o anche solo l'allentamento dei vincoli di deficit in funzione di queste sciagure che capitano non a caso sul nostro territorio, ci troviamo pure la risposta negativa. Non solo, ma poi si prevede con una sorta di ipocrisia incredibile, dice comunque ciascun Paese può chiedere l'assistenza al Paese confinante, senza oneri per il bilancio dell'Unione. Bene, se non ci fosse stato il trattato, questo è quello che naturalmente avviene in tutte le parti del mondo, cioè i cinesi o i giapponesi andranno a aiutare le Filippine quando hanno le loro sciagure naturali, non c'era bisogno di un trattato per dire che due Paesi possono fare un trattato in cui uno aiuta solidalmente quell'altro. Bene, allora cerchiamo di arrivare al punto, fatte queste premesse che rinviano un intero discorso che si snoda lungo tutte le norme che vi ho citato e che vi consentono di leggere il resto del trattato che sono centinaia e centinaia di norme. Ci soffermiamo sulla strana convinzione che l'euro concida sull'Europa. Ciò è giuridicamente errato, è frutto di un'alterata comprensione del testo dei trattati. Si è già esaminato in un'altra ipotesi, in un altro famoso lavoro che ho fatto, che comunque è nel libro. L'ipotesi dell'articolo 50, cioè forse l'hanno sentito molti di voi parlare di questo articolo 50 del testo unico, che prevede il recesso dall'Unione Europea. Non ha nulla a che vedere, perché il recesso è la uscita, la fuoriuscita, quindi il recesso si ne causa, si dice, dall'Unione Europea to court, che io non ci sto più in questo trattato. Non è applicabile all'ipotesi dell'uscita dall'euro, che è una cosa diversa. Abbiamo visto in premessa che l'euro non è un elemento costitutivo dello status di appartenente all'Unione Europea e non è un elemento, l'Unione Monetaria, costitutivo della Unione Europea stessa, della soggettività dell'Unione Europea, cioè non è una parte di questa maxi persona giuridica che è l'Unione Europea, la quale può esistere indipendentemente da esso. Quindi il recesso dall'Unione previsto dal testo unico, l'articolo 50, riguarda lo stato specifico di Stato membro e pone capa una valutazione più complessiva che implica il libero apprezzamento politico della convenienza a rimanere vincolato al quadro socio-economico dei trattati. L'articolo 3, paragrafo 4, abbiamo visto l'articolo 3, paragrafo 3, che è quello che contiene il clou dei principi fondamentali dell'economia sociale fortemente competitiva caratterizzata dalla stabilità dei prezzi, in cui la piena occupazione è quella neoclassica perché stabilità dei prezzi e forte competizione, cioè lavoro-merce e deflazione sono le regole del mercato del lavoro. Quindi la piena occupazione sarà per forza quella che è qualsiasi livello di occupazione compatibile con l'inflazione che si vuole raggiungere e non altro. Quindi è l'idea della nuova macroeconomia classica. L'articolo 3, paragrafo 4, recita L'Unione istituisce un'Unione economica e monetaria alla cui moneta è l'euro. Da ciò ricaviamo che la istituzione dell'Unione monetaria procede come atto successivo a quello del perfezionamento del vero e proprio trattato sull'Unione, che nel dare vita all'Unione monetaria, secondo apposite e complesse procedure, presuppone di agire già nella sua compiuta indipendente soggettività. Dunque l'Unione monetaria come atto imputabile a un'Unione che è già assorta, si autolegittima al di fuori dell'esistenza dell'Unione monetaria, l'Unione in sé, e comporta che l'organizzazione internazionale Unione non preveda nel suo statuto fondativo ne abbia successivamente previsto alcun espresso obbligo di partecipazione a carico degli Stati membri. Non c'è scritto da nessuna parte nei trattati che si debba far parte dell'Unione monetaria. A conferma che lo status di Paese aderente all'Unione non sottintenda l'adesione alla moneta come elemento costitutivo dello Stato stesso. Andatelo a chiedere agli inglesi, andatelo a chiedere ai danesi o agli svedesi, per quanto il loro discorso sia un po' diverso. Eroquente corollario, pienamente in linea con quanto precede, è che gli articoli 139, attenzione questo è importante, e 140 del testo sul funzionamento dell'Unione, prevedono la figura degli stati con deroga, attualmente una decina, 10 su 27, definiti come stati membri per i quali il Consiglio non ha deciso che soddisfino le condizioni per l'adozione dell'euro. Questa è una dizione generica, potrebbe aver deciso che non li soddisfino, potrebbe aver deciso negativamente, potrebbe non aver ancora deciso e forse potrebbe non decidere mai, perché manca la richiesta di entrare nell'euro. Ne vale a rendere meno significativa la disciplina degli articoli 139 e 140 il fatto che siano inseriti fra le disposizioni transitorie. Il nome in iuris, come tutti i giuristi di un certo valore dovrebbero sapere, recede di fronte al dato sistematico delineato dalla sostanza delle norme e dalle disposizioni interpretative di principio. In altri termini, una norma è transitoria, al di là della partizione nominalistica della fonte in cui è collocata, in quanto sia soggetta a un termine normativo e quindi un termine vincolante che segna la fine della sua applicabilità. Ciò non si verifica per gli articoli 139 e 140, dato che nessun termine finale risulta apposto rispetto alla conclusione del procedimento di adesione più o meno generalizzata all'Unione Monetaria. Le norme stesse non risultano transitorie anche a luce dell'applicazione pratica che ne è scaturita, ciò in quanto regolano status ormai stabilmente compresenti nell'Unione. Nessuno si sa apporre un problema di qualsiasi ordine di priorità sul fatto che esistano dieci paesi, o comunque sia un paese importante come Inghilterra, che non intraprende la procedura. E non poteva essere diversamente, dato che come abbiamo visto l'articolo 3 paragrafo 4 non pone alcun termine ed alcuna obbligatorietà della partecipazione all'Unione Monetaria, piuttosto come risulta evidente, sono gli stessi articoli 139 e 140 a escludere come oggetto di obbligo. Quindi gli articoli 134 e 140 non sono più norme transitorie né per il loro contenuto né per la loro applicazione, perché finiscono per disciplinare in via generale astratta un allargamento dell'Unione Monetaria ad applicazione indefinitamente ripetibile. Questa è la caratteristica tipica delle norme non transitorie. Allora, andiamo a vedere cosa comportano gli articoli 139 e 140. Non soltanto non è obbligatorio attivare la procedura di essere ammessi nell'Unione, ma l'attivazione è volontaria, ma anche nella stessa fase finale di ammissione è sempre presupposta la libera iniziativa e la prestazione costante ed attuale del consenso del maese membro interessato. Ciò si risume agevolmente non solo dal paragrafo 1 dello stesso articolo 140 relativa alla previsione di una richiesta attivativa, ma anche dal successivo paragrafo 3 in virtù del quale l'atto finale ammissivo che è deliberato dal Consiglio dell'Unione Monetaria è obbligatoriamente adottato dal Consiglio all'unanimità, ma questa unanimità con la partecipazione dello Stato membro in questione. Quindi, se anche avesse ricevuto il patentino, tutti i parametri di convergenza sono rispettati, non si presenta il giorno che bisogna deliberare l'unanimità, non entra nell'euro. Nessuno può costringerlo. Anche se avesse superato l'esame e anche se avesse attivato il procedimento per chiedere di essere giudicato, è come se uno facesse l'esame della patente e poi non è obbligato a guidare la macchina. L'Unione Monetaria dunque è un istituto auspicato, ma non giuridicamente costitutivo dell'Unione Europea, risultato configurato sotto ogni profilo come conseguenza di un provvedimento ampliativo a carattere eventuale, ampliativo di uno status autonomamente sussistente nella spienezza, ne dicendo ulteriormente che l'intero regime giuridico dell'ammissione nell'euro, qualunque sia stato il procedimento, come è successo anche per l'Italia, è quello proprio degli atti ampliativi. Cioè, questo ampliamento dello status che è autonomo di componente è costantemente mantenibile a condizione del protrarsi del consenso coessenziale del Paese, tra virgolette, beneficiato. Come accade per una licenza d'autorizzazione edilizia, oppure per una licenza per la vendita degli alcolici, il titolare avrà sempre e comunque, in omaggio alla libera disponibilità volontaria del bene aggiuntivo attribuitogli, la facoltà di rinunciarvi. Potrà sempre restituirle quel titolo, quel foglietto di carta. Ciò va ribadito con figure a tale disponibilità come principio di civiltà giuridica, comune alle nazioni civile. E sarà sempre possibile, deve essere sempre possibile, in base ai principi dello use coges internazionale, esprimere il contrarios consensus del Paese, sempre tra virgolette, beneficiato. Perché altrimenti, da atto ampliativo, si trasformerebbe in atto ablativo, cioè espropriativo, proprio di quella stessa volontà dispositiva dei propri interessi che insita nel sistema degli articoli 139 e 140. Adesso, una parte finale, vorrei farla perché in Italia non ne ha mai parlato nessuno correttamente, però credo che sia un'informazione importante. Se un Paese può direttamente e liberamente revocare il proprio consenso costitutivo all'Unione Monetaria, non all'Unione Europea, riacquista lo status, o comunque acquista lo status di Paese membro, cioè perde lo status di Paese membro la cui moneta è l'Euro e acquisisce lo status, che hanno già altri 10 Paesi, di Paese con deroga. Allora, cosa succede? Vediamo un po' cosa succede, perché questa è la cosa più interessante, perché il dramma che stiamo vivendo oggi riguarda tutta la serie di vincoli e problemi che ci crea ciò che vuole l'Europa. A tale Stato, peraltro, si applicherà automaticamente la disciplina con gli Stati in deroga che presuppone, ecco questo è il punto fondamentale, gli Stati in deroga si sottraggono a regime sanzionatorio per disavanzo eccessivo, quello per cui ci hanno fatto soffrire tantissimo ricattandoci persino sui fondi che noi versiamo in più nel bilancio europeo. Previsto dall'articolo 126 del Trattato sullo funzionamento dell'Unione e la esclusione dal regime sanzionatorio è prevista espressamente dall'articolo 139, paragrafo 2, lettera B. Ci si sottraia gli indirizzi di massima per le politiche economiche concernenti ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, i soli Paesi dell'area Euro. Ancora, la sottrazione allo stesso obbligo di incondizionato adeguamento della disciplina della propria Banca Centrale agli articoli 130 e 131 del testo sul funzionamento dell'Unione. Perché? Perché la sanzione del mancato adeguamento della Banca Centrale allo Stato di indipendenza pura, che è previsto dall'Unione, che è un unicum, è un unicum al mondo, attenzione, perché già è rischioso che una banca indipendente funzionalmente sia nella capture, come dice Stiglitz, della comunità bancaria o finanziaria, se poi la rendiamo pure pura, diventa una sorta di minavagante rispetto all'intrinseca valenza democratica della moneta. Infine, e quindi praticamente l'unica sanzione che c'è nel non adeguare la disciplina della Banca Centrale agli articoli 111 è la non ammissione nell'euro. Se io ne esco, automaticamente mi sottragga ogni sanzione. L'ultima cosa importantissima da questo punto di vista è che ci si sottrae al fiscal compact, perché il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto fiscal compact, al articolo 14, paragrafo 5, prevede il presente trattato si applica alle parti contraenti con deroga, cioè i famosi eventuali dei paesi, perché alcuni hanno aderito, ma è una procedura adesso, ai paesi con deroga, dalla data di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale deroga o esenzione, quindi soltanto al momento in cui loro abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi dentro l'euro. Quindi, fiché, cioè quelli hanno aderito, è stata quasi una presa in giro, no? Perché per dare una parvenza di legittimità al fiscal compact, che modificava alcune previsioni del trattato principale, non essendoci nell'unanimità di tutti, hanno aderito per fare numero, per fare, chi dice, no, lo vuole l'Europa, lo vogliono tutti, hanno aderito a paesi che non c'entrano niente, i quali hanno fatto semplicemente presenza, ma non si sono soggettati al fiscal compact, è una cosa incredibile. Infine, l'Italia esce dall'euro, si sottrae a tutti questi vincoli, come vedete, può ricoprire una banca centrale non indipendente pura, cioè può ritrovare un tesoriere, il tesoriere da quando ci stavano i re con la corona in testa, con una funzione non trascurabile, coessenziale della sovranità. Per di più la nostra sovranità è democratica, cioè la nostra sovranità è tutela dei diritti fondamentali, quindi la nostra moneta è al servizio della tutela dei diritti fondamentali, il cui primo è il lavoro. Quindi, uscendo da tutti questi vincoli, usciamo da dedicati e quindi possiamo rinegoziare veramente. Questo è il punto. Siamo nell'Unione Europea e possiamo lo stesso negoziare. Un'ultima cosa, ultimissima, scusatemi. Questa di uscita uscita dell'euro, seguendo il semplice meccanismo lineare del contrario sconsensus ammesso dal sistema normativo non transitorio, è una decisione tecnico-politica che non è appropriatamente assumibile con un referendum, perché ha a monte e a valle ricadute di decisioni discrezionali, tecnico-discrezionali, che presuppongono una linea programmatica già ben chiara su che cosa, sul modello socio-economico del Paese che si vuole. È un episodio, non ha senso fare un referendum su un episodio, perché una volta che ho deciso che modello socio-economico voglio e voglio recuperare la Costituzione, spero, no? Non avrò bisogno di fare un referendum, perché quello sarà un passaggio obbligato. È la legalità costituzionale che mi porta a dire io utilizzo questa mia facoltà per uscire dall'euro e recupero la forza della Costituzione. Grazie. Grazie al professore Barla Caracciolo, un'analisi molto dettagliata e approfondita di quelli che sono le priorità dei trattati europei. Io riflettevo ascoltandolo che alle volte sembra che dobbiamo muoverci all'interno di una rete che ci sta imbrigliando, nonostante i trattati dovrebbero essere fatti per agevolare l'unione, la solidarietà tra i cittadini, quindi dovrebbero aiutare i cittadini a comprendere meglio quali siano gli obiettivi finali di un'unione. Io so bene che l'unione tra stati deve essere una cooperazione da stati fondata sulla cooperazione, e non sulla competitività tra gli stati. Quindi qui ritorniamo alle cessioni di Petrella che facevamo all'inizio. Io non mi dilungo molto, voglio soltanto sottolineare il concetto secondo me fondamentale della distinzione tra Unione Europea e Unione Monetaria. Questo secondo me era uno dei aspetti fondamentali che ha trattato il professore e quello di lavoro come merce. Il lavoro è fatto dai cittadini, dalle persone. Quindi se noi riusciamo, con i trattati, andiamo a stabilire che il lavoro è una merce, trattiamo i cittadini di conseguenza come merce. Quindi queste sono le riflessioni che va bene introdurre quanto meno. Quello che come avete tutti notato dalla relazione del nostro professor Baracaraccio di quanto sia comunque è una tempia complessa che vada affrontata in maniera pragmatica per far arrivare la giusta informazione a tutti i cittadini. Non mi dilungo oltre e passo alla prossima presentazione che è quella del professor Vino Galloni che se vuole avvicinarsi alla situazione. Comincio qua poi passo lì per le slides. Va bene, una presentazione dinamica diciamo, benissimo. Sì, ci proviamo. Io volevo sottolineare tre aspetti e se è possibile poi ce ne sarebbero altri due. Non voglio imitare Luciano e dilungarmi troppo. Sì, sì, no, vabbè, sei stato bravo. Allora, prima di tutto, in condizioni di crisi economica, proprio perché la crisi economica può peggiorare, le politiche di austerity e la spending review producono effetti a breve termine, cioè contabili, negativi sui conti pubblici. Cioè in pratica si deve tagliare sempre di più per avere effetti sempre più negativi sul gettito tributario e conseguentemente aumentare la pressione fiscale. Le politiche espansive, dopo farò un esempio diciamo numerico, invece, possono più o meno nell'immediato avere un effetto simile, cioè peggiora il disavanzo, aumenta il disavanzo. La differenza però è che nel tempo, come vedremo, le politiche espansive consentono di ragionare intorno a una riduzione della spesa pubblica e soprattutto una riduzione della pressione fiscale accompagnata con un mantenimento o un aumento del gettito fiscale, tributario. Questo è il punto. Cioè tagliare le spese comporta disoccupazione, quindi aumento delle spese per la disoccupazione comporta un minor gettito contributivo, comporta un minor gettito fiscale che viene compensato con un aumento della pressione. Viceversa, aumentare il PIL fa sì che, al contrario, il gettito tributario, come vedremo, aumenta e quindi si creano le condizioni per ridurre la pressione tributaria. Allora, se le politiche di austerity in condizioni di crisi economica non producono il miglioramento dei conti pubblici, vuol dire che la loro finalità è la sofferenza sociale. Queste politiche di austerity non sono finalizzate a migliorare i conti dello Stato, infatti si vede che non riescono a farlo, ma è esattamente il contrario. Quando io partì la prima volta per il Congo dove mio fratello è missionario, ero convinto che le politiche economiche e monetarie sbagliate avessero determinato il genocidio. Quando sono tornato già la prima volta anni fa mi ero convinto esattamente del contrario. Il genocidio era l'obiettivo e le politiche economiche e monetarie sbagliate è il modo per conseguirlo. La situazione è simile, bisogna un attimino, come ricordava prima Antonio Rinaldi, svegliarsi. Vediamo un esempio numerico per capire meglio i risultati di una politica, o meglio di una manovra espansiva. Dunque, abbiamo l'affare, andiamo sui moltiplicatori, questo va bene ma non benissimo. Ecco qua, ipotizziamo un aumento di 70 miliardi con investimenti, lì c'è l'esempio 50 miliardi per reddito di cittadinanza, 20 miliardi per investimenti produttivi, assetto del territorio, roba e va, adesso non ha importanza. 70 miliardi sono il 4,47 del PIL, ma siccome c'è un moltiplicatore, cioè questo tipo di spesa determina effetti cumulativi come accennavo prima, perché se io aumento la retribuzione dei dipendenti pubblici entro certi limiti, si venderanno più pizze, si venderanno più caffè, si venderanno più cappuccini, si venderanno più giornali, quindi ci saranno più tasse, ci sarà più IVA, eccetera, eccetera. Mediamente si calcola che questo comporti, cioè il moltiplicatore sia 1,5, cioè c'è un aumento del 50%, per cui l'effetto sull'economia è di un aumento del PIL del 6,70. Ma immediatamente questo 6,70 con una pressione fiscale come quella attuale del 50%, fa sì che l'effetto in termini di spesa si riduca al 3,35. Ora, se sottraiamo il 3,35, cioè le tasse che entrano nell'esercizio contabile di cui stiamo trattando, alla spesa in disavanzo, poi vediamo come è finanziata, noi otteniamo un 1,12, cioè in realtà otteniamo un aumento della spesa pubblica netto dell'1,12 da finanziare per ipotesi con emissione di titoli di Stato. Quindi dite voi, aumenta il debito pubblico dell'1,12? Sì, ma siccome aumenta il PIL del 6,70 il risultato è che essendo il debito al numeratore e il PIL al denominatore migliora il rapporto. Negli esempi numerici che vedete, infatti, abbiamo che da un 132,9 di quest'anno, dovuto a un debito di 2.080 miliardi e a un PIL di 1.565, si passa a un debito che arriva a 2.103 miliardi, ma il PIL aumenta di più, cioè la derivata prima del PIL è maggiore della derivata prima del debito, conseguenza si riduce il rapporto, quindi si passa a 125, a 119, a 113. Un risultato del genere è impossibile con le politiche di austerity, con questo tipo di politiche, mentre è possibile con una politica di austerity. Applausi Seconda cosa, fra qualche giorno verrà formalizzata la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia. Può essere letto in tanti modi questo fatto, in termini pratici, dicevi, sembra logico che la Banca d'Italia abbia un capitale sociale di 156 mila euro, che sono i vecchi 300 milioni di lire del 1936, voi capite negli anni 30 quanto erano 300 milioni di lire, ovviamente. Quindi si rivalutano vantaggio per le banche, vantaggio per gli attuali azionisti, che sono principalmente le banche, anche l'Inps ha un 4%, non è poco. Poi si mette un tetto al possesso di capitale rivalutato da parte degli attuali partecipanti e quindi quando essi sforassero dovrebbero mettere sul mercato, cioè vendere e quindi lucrare di questa vendita. Ma in realtà questa operazione non ha poco a che vedere con quello che vi sto dicendo finora. In realtà potrebbe essere il piano B per evitare che, uscendo dall'euro, riacquisiamo sovranità monetaria, perché in questo modo la Banca d'Italia è per sempre privata. Allora ci sono due possibilità. O si mette un momento in discussione questa operazione, fermatevi tutti, vogliamo capire, vogliamo ragionare, oppure bisognerà fare una rivoluzione dopo, quello che preferite. Ricordo soltanto che nel 1982 si perse la sovranità monetaria con una lettera dell'allora ministro Andreatta al governatore della Banca d'Italia. Nel 1989 Andreotti mandò a sottoscritto un bigliettino per dire cambiamo l'economia di questo paese, ci dà una mano? Sì, mi misero a disposizione, mi misero a disposizione il ministero del bilancio. Dopo tre mesi arrivarono un po' di telefonate e quindi io me ne dovete andare la seconda volta. Qui il problema è che invece di affrontare cose importanti in dibatti di parlamentari seri, al Parlamento viene dato il ruolo o di ratificare delle cose decise altrove che non si capisce che cosa serve, o di affrontare la dimensione delle etichette delle bottiglie di acqua minerale e cose simili, ma non di affrontare un tema importante e cruciale come sarà quello della rivalutazione delle quote della Banca centrale. Terza cosa, come è nato l'euro? L'euro è nato dall'accordo inizialmente tra la Francia e la Germania a riguardo della rionificazione della Germania e che aveva come richiesta da parte della Francia l'abbandono del Marco, ratificato per fra virgolette sempre a umma umma dall'Italia che nel corso di un anno era passata da non volere la rionificazione della Germania ad accettare l'aspetto principale di quell'accordo fra Kohl e Mitterrand che era la deindustrializzazione dell'Italia, perché senza la deindustrializzazione dell'Italia non era possibile portare avanti la rionificazione della Germania, cioè l'Italia che negli anni 70 aveva superato l'Inghilterra, aveva avvicinato la Francia e stava minacciando in termini di competitività la Germania, poteva essere fermata solo in due modi, sottraendo le sovranità monetaria e quindi impedendo alla classe politica di fare la cosa più importante, cioè decidere e continuare a decidere gli investimenti pubblici. E' ovvio che poi la classe politica, non potendo più decidere il futuro, cioè gli investimenti pubblici, dovendosi solo spattire le poltrone, ha fatto quello. Non è neanche colpa della classe politica, è colpa delle decisioni che hanno portato a quella situazione. Il mio maestro Federico Caffè disse, caro Galloni, mi sa che qui insieme con l'acqua sporca buttiamo via anche il bambino, perché l'obiettivo era quello di togliere alla classe politica, corrotta e clientelare, lo strumento degli investimenti. A distanza di tempo io posso dire che il bambino è stato buttato via, cioè lo sviluppo economico e l'acqua sporca, cioè la corruzione, ce la siamo tenuta tutta. Però mentre quelli della prima repubblica rubavano, perché rubavano, e questa non è sicuramente una cosa buona, ma rubavano sui profitti, cioè creavano posti di lavoro e rubavano, creavano competitività e rubavano, creavano grandezza industriale e rubavano, quelli che sono venuti dopo hanno rubato sulle perdite, cioè hanno creato disoccupazione e rubavano. I manager pubblici, quando io sono entrato alla fine degli anni 70 nella pubblica amministrazione, si vantavano di avere assunto, di avere vinto competizioni a gare internazionali, di avere portato metropolitani e ferrovie a Washington, eccetera. Questo era il vantarsi. Nel giro di pochissimi anni i manager privati e pubblici erano tali e si vantavano di avere licenziato 5.000 persone, di avere tagliato 5.000 teste, eccetera. Questo è stato il grande cambiamento culturale, perciò dico abbiamo buttato via il bambino e poi ci siamo tenuti l'acqua sporca, tanto voleva tenersi tutte e due. Il punto cruciale su cui poi è cascato l'asino è stato il problema della competitività internazionale, per cui, in pratica, sottratta la sovranità monetaria, eliminato sia con gli accordi dei cambi fissi sia poi con l'euro stesso la possibilità di agire con la leva valutaria per svalutare o rivalutare, non rimanevano che due strumenti. Uno era l'aumento dei tassi di interesse, perché se un paese non era abbastanza competitivo doveva attirare capitali, quindi aumentare i tassi di interesse, ma aumentando i tassi di interesse diventava sempre più debole, cioè esportava sempre di meno perché non poteva fare gli investimenti. Se aumenta il tasso di interesse l'orizzonte temporale delle imprese si accorcia e quindi non si assume. Viceversa, il paese forte, non dovendo più rivalutare, poteva abbassare i tassi di interesse e quindi fare politica di investimento nella tecnologia innovativa che lo rendeva sempre più competitivo. Ora il punto è che esistono fondamentalmente due modelli, ce ne sono vari, ma due fondamentali. Uno è quello attualmente scelto dalla Cina da due anni, che è quello di sacrificare anche le esportazioni, ma soprattutto di far crescere la domanda interna. O meglio, gli economisti hanno sempre dimostrato che se tu fai crescere la domanda interna, poi diventi più competitivo all'esterno perché realizzi le economie di scala e in base alla teoria dei costi decrescenti sei sempre più competitivo. Quindi un paese come la Cina, ma anche l'India, il Brasile eccetera, che cosa stanno facendo? Stanno diventando e rimangono molto competitivi sul piano delle esportazioni, ma facendo crescere la domanda interna. Fino a un certo punto la Germania è stata così, cioè ha fatto crescere la sua competitività e la sua domanda interna. Da qualche tempo la Germania è in una grande crisi perché per difendere la propria competitività esterna, perché è diventato quasi un principio ideologico, un Dio messo lì, sta sacrificando la sua domanda interna. E qual è il punto? Che gli investimenti in innovazione tecnologica dei privati in Germania si sono fermati. Quindi quello che dobbiamo capire è che se noi riusciamo a trovare una via per far riprendere la domanda interna, i consumi, l'economia, le retribuzioni, diventiamo più competitivi sul piano internazionale. Mentre reggere la competitività unicamente perché, ed è una possibilità che ti lascia l'euro, poi devi ridurre i salari e poi lo chiamano ulteriormente e lo chiamano le riforme. Le riforme del mercato del lavoro è ridurre i salari. Siete precari a 450 euro al mese, lo sarete a 250 euro al mese. Poi si darà la colpa all'Inps se le pensioni sono basse o al sistema contributivo. No, è che i salari sono troppo bassi e quindi impediscono la realizzazione di pensioni adeguate, così come l'abbassamento dei salari precedente alla riforma di INI era stato architettato, o meglio la riforma di INI, la riforma del contributivo era stata architettata perché il sistema a ripartizione non poteva reggere più se c'era disoccupazione e riduzione dei salari. Quindi voglio dire questo è il punto, queste sono cose in cui si sarebbe dovuto discutere di più dentro a una Camera, dentro a un Senato, dentro a un Parlamento, nei partiti politici e invece oltre a qualche sceneggiata di qualche tavolo tecnico non si è fatto altro e poi le riforme sono state portate così. Se proposte da Berlusconi sono state bocciate con un milione di persone in piazza, viva Dio, ma poi una volta che il Governo è diventato di centrosinistra sono state approvate anche in modo peggiorativo e questo su cui ci dobbiamo interrogare. I miei colleghi che andavano a trattare a Maastricht delle cose assurde facevano un quadro macroeconomico di sviluppo infinito, cioè almeno il 3% all'anno tutti i paesi con l'euro sarebbe stato, non hanno assolutamente preso in considerazione l'ipotesi che ci potesse essere un periodo di crisi economica dove ovviamente l'unico modo per contrastarla era ed è il disavanzo. No? Ma quelle stesse persone quando poi sono andate qui a Roma a trattare sul tema della riforma previdenziale in Italia hanno fornito un quadro macroeconomico completamente opposto cioè dicevano siccome cala la domanda, siccome cala l'occupazione, siccome calano i salari lo dobbiamo fare una riforma estremamente penalizzante per i lavoratori eccetera. Ecco qui che io mi domando allora sono tecnici o sono portatori di altri interessi ben precisi che fra l'altro il buon Rinaldi ci ha ben sintetizzato. Penultima ultima cosa, noi qui in Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di imprese. Di queste 500 mila fanno profitti, esportano tutto quello che si sa, evadono, erodono e vabbè. Gli altri 4 milioni profitto non ne fanno e sono peraltro sottoposte a pressioni fiscali enormi. Ma queste 4 milioni di piccole imprese italiane rappresentano un nuovo modello economico e qui nessuno se ne sta accorgendo. Un modello non di profitto perché se l'obiettivo fosse stato o fosse il profitto avrebbero in base alle regole che qualunque economista conosce a chiudere, avrebbero dovuto chiudere e con le vendite comprare obbligazioni e campare di rendita come auspicava l'allora ministro Andreatta in una lunga discussione, maestro di Enrico Letta, in una lunga discussione con me e mi disse caro Galloni certo noi vogliamo far crescere i tassi di interesse sui titoli del debito pubblico perché vogliamo eliminare milioni di imprese che sono poco competitive, piccolo particolare, piccolo particolare. In questo paese le piccole imprese sono competitive anche sull'estero, cioè mentre in Germania le piccole imprese sono tutte rivolte al mercato interno, le nostre invece, una al mercato interno, una internazionale, una si internazionalizza, imprese di 10 persone che stanno in 5 paesi del pianeta. L'Italia è la terza potenza mondiale come diversificazione merceologica all'estero dopo la Cina e la Germania. Quindi vuol dire che il piano di Colle e Mitterandi di industrializzarci non è riuscito, è riuscito in parte ma non compiutamente. Quindi questi 4 milioni di imprese fondamentalmente a che cosa puntano? A controllare risorse reali, ad assicurare a se stessi e ai propri congiunti un posto di lavoro e intanto però così ci tengono a galla. Allora per questa gente è necessario cambiare la politica fiscale, ma come si fa a cambiare la politica fiscale? Allora questa gente deve pagare il lavoro a un mese, le bollette a due mesi, i fornitori a tre mesi e poi in cassa dalle proprie vendite a sei mesi quando le cose andavano bene, poi nove mesi, dodici mesi, quindici mesi, il tempo in cui un'azienda rientra delle sue vendite è l'indicatore più preciso della crisi. Quindi in pratica se la banca non le sostiene chiudono, ma non è che si suicidano per i debiti, si suicidano per i crediti, questo è il problema. Allora se non introduciamo, reintroduciamo la netta separazione tra banche come operatori di credito sul territorio e le centrali finanziarie, perché adesso sono unite, quella poi è la causa dei 4 milioni di miliardi di titoli tossici che è 50 volte il PIL mondiale. Se non rintroduciamo quella netta separazione non possiamo ridurre la pressione fiscale, perché se io che ho un'aliquota, ora non lo so, sarà il 46%, vuoi avere il 23% di aliquota? Magari, che problema c'è? Il mio datore di lavoro invece di trattenermi il 46% mi trattiene il 23% e io guadagno un cerco di soldi. Ma se io ero evasore e pagavo zero, come faccio a pagare questo 23% se qualcuno non me lo presta? Da dove veniva fuori? Quindi il ruolo delle banche è fondamentale, ma perché le banche facciano credito occorre che non possano fare altro che credito e staranno molto meglio di quanto non stanno adesso. Poi approfondiremo questo argomento in un'altra occasione. Ultimo punto, visto che abbiamo parlato di piccole e medie imprese, di che abbiamo parlato? Abbiamo parlato di investimenti pubblici, quindi di infrastrutture, abbiamo parlato di sovranità monetaria e quindi di recupero del reddito, che significa aumento dei consumi, che significa aumento delle vendite, che significa stabilizzazione delle prospettive anche di profitto nel futuro, perché è quello che fa fare gli investimenti ai privati. Se no i privati non investiranno mai nell'economia reale. Dov'è l'errore di tutte le politiche di centrodestra? Dire riduciamo le tasse così i privati investono. Sì, ma dove investono? Nelle attività finanziarie, perché se tu non hai un effetto sull'economia reale di crescita dei consumi, non c'è prospettiva di profitto e i privati, come sta succedendo in Germania, non investono. Questo è un problema fondamentale. Ma voi direte, ma se riduciamo le tasse alla classe media? Ma se riducete le tasse alla classe media e poi riducete la spesa pubblica per trasporti, per sanità, per istruzione, la classe media si trova a risparmiare qualche migliaio di euro, perché c'è stata la riduzione delle tasse. Ma poi ne deve pagare 10.000 perché le scuole non funzionano, i trasporti non funzionano, la sanità non funziona. In queste condizioni la riduzione delle tasse comporta un impoverimento della classe media. Forse per i ceti più ricchi sarà diverso. I poveri le tasse non le pagano, ecco fatto che non funzionano queste politiche. L'unica politica, l'unico attrezzo che abbiamo dentro la cassetta per cambiare le cose sono i disavanzi pubblici sostenuti in qualche modo. Adesso poi va approfondito perché non è che dobbiamo per forza un ponte che costa 15 milioni e che non serve a niente pagarlo 30 milioni perché gli altri 15, gli amici degli amici si devono spartire la torta. Eppure quella cosa lì sarebbe meno negativa che non farlo o che non fare le opere di cui abbiamo bisogno. Ma non abbiamo bisogno di 300-400 miliardi di interventi sul territorio per l'assetto idrogeologico? Non dobbiamo finanziare il futuro dei nostri figli, cioè le scuole e tutto il resto di cui abbiamo bisogno. Pensate alla sanità, la sanità primaria. Il Movimento 5 Stelle l'aveva messa nel suo programma elettorale e questo è un fatto da sottolineare. Allora, concludo. Sovranità monetaria, separazione bancaria, politica di crescita del reddito e dei consumi, ci manca un'altra cosa fondamentale. Dobbiamo riposizionare la pubblica amministrazione. Come facciamo a diventare la pubblica amministrazione amica dei cittadini? È semplicissimo. Lo Stato non deve posizionarsi fra la legalità e l'irregolarità, trattando allo stesso modo i veri criminali che poi la fanno franca e quel poveretto che si è dimenticato di appiccicare un bollo su una domanda o di riempire una riga invece che un'altra riga in una cosa. Allora, vi dico solo questo perché non sono ipotesi filosofiche e teoriche. Io l'ho fatto. Io l'ho fatto per tre anni quando ero direttore generale al Ministero del Lavoro perché c'era una legge che nel settore di cui mi occupavo io me lo consentiva. E io ho piazzato i miei ispettori fra l'irregolarità e l'illegalità. Quando c'erano dei reati, ci sono i carabinieri, ragazzi fate rapporto all'autorità competente. Quando invece c'erano piccole irregolarità, problemi, quello che non sapeva fare il bilancio eccetera, questi piccoli operatori che volevano anche regolarizzarsi ma proprio non ci riuscivano, dicevo voi conoscete la legge, voi siete pagati per questo, non dovete andare lì a fare una multa, voi dovete andare lì, gli fate il bilancio, voi lo conoscete, voi sapete qual è la riga da riempire. E loro lo facevano e quindi il rapporto fra i cittadini e le istituzioni era buono. Bene, ringrazio anche il professor Galloni per la sua redazione e durante il suo intervento invece pensavo a quest'altra cosa. A quanto sia importante avere una voce fuori dal coro? Chissà se durante il governo Monti qualcuno avesse detto queste cose magari anche in televisione oppure sui giornali qualcuno avesse dato questo genere di informazioni se magari la percezione dei cittadini sarebbe stata diversa. Chi lo sa? Magari se qualcuno va a tirar fuori qualche titolo di giornale di quando Monti venne chiamato a salvare l'Italia, fece anche un decreto dal nome Salva Italia, magari si può ricordare quali erano i titoli, doveva venirci a far uscire dal buio. E invece abbiamo visto, e oggi il professor Galloni ne dà conferma, penso che non sia la prima volta che lo dice, forse lo diceva anche qualche anno fa, ci ha fatto vedere come ci sia stato un vero e proprio fallimento delle politiche di austerity e qualcuno timidamente lo ha anche ammesso qualcuno che si chiama sempre Monti oppure anche Ricoletta qualche volta l'ha detto, ma qualche riga sommessa, così giusto forse per riabilitare la propria immagine, ha detto che effettivamente le politiche di austerity non possono salvare il Paese. Poi mi piaceva sottolineare anche il fatto che l'aumento di capitale della Banca d'Italia, noi ci stiamo lavorando all'interno del Parlamento, in particolare la Commissione Finanze sta lavorando a questo aspetto e ci verrebbero a dire che dopo la separazione c'è stata la prima privatizzazione e poi forse il secondo giro di privatizzazioni sta prendendo in atto e del resto c'è anche il piano destinazione Italia di Letta e potrebbe essere il venditore operativo e potrebbe anche essere l'ultimo giro di privatizzazioni, chi lo sa. Non voglio fare il complottista, quindi non mi permetterei mai di dire oppure di assecondare l'affermazione del Professor Galloni quando dice che l'Euro è stato deciso a tavolino da Colle e Mitterrand come misura di deindustrializzazione del nostro Paese, me ne guardo bene perché poi mi danno del complottista, certo però c'è da fare un'analisi, cioè dire come è stata l'Italia prima dell'introduzione della moneta unica e come oggi ci troviamo, le nostre imprese, il nostro potere d'acquisto oppure se si lavoratori, se magari abbiamo più lavoro, più ricchezza oppure no. Quando si è deciso l'Euro, poiché si sottraeva agli Stati e ai singoli Stati la possibilità di svalutare, ovvero di rivalutare, non è stato assolutamente pensato un meccanismo alternativo che avrebbe reso l'Euro una moneta nobile, non ignobile e cioè la possibilità di gestire in disavanzo con un meccanismo anche a livello europeo le problematiche di ogni singolo Paese, quindi quella compensazione che non era più possibile attraverso la leva valutaria veniva fatta attraverso investimenti autorizzati dalla stessa Unione Europea in funzione di quanta era la disoccupazione o le problematiche di ciascuno Stato. Allora sarebbe stato diverso il progetto. Ok, dunque ci arriviamo subito, poi magari non facciamo una battuta però rapida. In realtà ci hanno pensato benissimo. Penso che possa bastare questa sintesi. Chiudo dicendo che alcune proposte come sempre che vengono fatte dai redatori lo potete confrontare tra le varie occasioni di incontro che abbiamo avuto, sia anti-euro, pro-euro e neutro-euro, di confrontare le proposte che vengono fatte dai redatori con le proposte che effettivamente il Movimento 5 Stelle sta portando avanti in Parlamento. Per esempio il professore Gazzoni parlava della separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Io invito tutti i cittadini italiani che vedranno questo incontro in streaming a verificare chi magari porta avanti questo discorso, se potete andare a controllare le proposte di legge presentate dai vari partiti politici, movimenti, al termine del Parlamento, quindi dove conta veramente e magari farsi la propria idea. Lascio dunque, dopo questa piccola riflessione, la parola a il professor Borghi che ci parlerà dell'importanza di fissare le priorità. Prego. Allora, ringrazio molto Carlo del Movimento 5 Stelle per aver dato questa opportunità di dibattito. Io sarò brutale, quindi preparatevi perché vi tocca, nel senso che voi siete presenti e quindi sarete brutalizzati. In realtà non è colpa vostra, è chi è assente che dovrebbe essere brutalizzato, però conto che sia brutalizzato in remoto via video. Per cui, io non sono un ricercatore, per cui non ho nulla di originale sinceramente da dirvi, io sono un ex dirigente. all'università sono lì, non in quanto, cioè in questo momento io sono qua, non spero in quanto docente universitario, o se lo sono, lo sono perché prima avevo fatto qualcosa lavorativamente. per cui le mie conoscenze discendono da attività pratica. Quindi sono stato, diciamo così, addestrato da anni di lavoro a avere a che fare con quelle cose brutte che sono le priorità. Sono le priorità e che chi fa ricerca in università, purtroppo ha tante volte il lusso e la meravigliosa capacità di poter mettere da parte. Perché? Per limare benissimo un paper, aspettare la peer review, aspettare che ritornino, vedere la pubblicazione, farci un bel seminario e discutere, ci passano secoli e se il problema è un treno che ti sta venendo addosso, il paper non serve a nulla. Quindi io come persona pratica mi devo purtroppo prendere la responsabilità di dover fissare delle priorità. Le priorità possono essere un reato. Se c'è uno che sta morendo per strada e io lo lascio lì, perché poi dopo mi dedico ad altre cose che sono pur meritorissime, sono colpevole di omissione di soccorso. Sono un criminale. Per cui, se noi individuiamo nella situazione attuale, una situazione di gravissimo pericolo e ci dedichiamo ad Atrom, siamo dei criminali. E' chiaro? Allora, dato che mi pare che la situazione attuale sia sotto gli occhi di tutti, quanto grave è? Perché poi dopo magari uno si siede oppure uno ha una posizione comoda, come la mia. Io sono comodissimo, io nel mondo dell'euro ci sguazzerei. Sono abbastanza benestante. Scendono i prezzi. La gente è così impiccata, vende le sue cose, vendono i quadri. Io sono un collezionista d'arte, lo sapete, eh? Quindi, ho comprato recentemente il quadro dei miei sogni, veramente, che io non potevo neanche immaginare che io di riuscire a comprarlo, perché era una persona in difficoltà. non ho remore, l'ho pagato il giusto prezzo e questa persona è arrivata a fine mese grazie anche alla vendita del quadro. Quindi penso di aver fatto una cosa corretta. Ma di base io sarei contentissimo di questo mondo deflattivo. Però non va. Non va perché basta avere non due occhi, che già è un lusso, basta avere uno qualsiasi dei cinque sensi aperto per rendersi conto che la situazione italiana è drammatica. Ce l'avrete anche voi, no? Suppongo, qualche persona disoccupata, qualche persona a cui, che magari ha messo una vita in un'azienda e adesso deve rargi una sola cinesca piangendo. Sia per la vergogna di dover chiudere un business che doveva essere il sogno della sua vita, sia per la vergogna di dover andare a licenziare delle persone che erano come i suoi familiari. Quale gente si suicida così? Io scrivevo gli articoli sul giornale, cattivissimo il giornale, sui suicidi in Veneto anni fa, ma non importava nessuno. Adesso poi magari diventa un pochettino più di moda, però è un'emergenza. Allora, dato che è un'emergenza, mi si fa il piacere di considerare questa cosa come la priorità assoluta. dato che questa cosa è la priorità assoluta, se noi dedichiamo più tempo del dovuto ad altre cose che pur riteniamo importanti, doverosi, presenti nel nostro programma e cose di questo tipo, ad altre cose, siamo dei criminali. Basta saperlo. Per cui mi è toccato, mi è toccato anche se, ripeto, non era il mio mestiere dover andare in giro a spiegare alcune cose. Perché appunto sono in università perché un po' le cose le so spiegare e quindi allora cerchiamo di spiegarle. Cosa succede quando bisogna prendere una decisione o poi bisogna capire cosa sono le cause di un problema? Si leva di torno tutto il rumore di fondo, vale a dire quello che non c'entra, di quello non se ne parla. Cominciamo con il debito pubblico. Allora, il debito pubblico ha un unico problema, o è garantito o non è garantito. Quindi o c'è una banca centrale che dice sì, questo, io sto dietro questo debito e nel caso posso anche monetizzarlo o altrimenti la gente corre a venderlo e non è possibile rientrare in un'altra maniera. L'abbiamo visto con lo spread, si sono inventati un sacco di cose poi vedremo a cosa stiamo, comunque già l'avete intuito, si sono inventati i fondi salva stati, nulla e mai ogni volta che un fondo salva stati è stato creato, è stato rimpolpato, è stato deciso e cose di questo tipo non ha mai fermato nulla dello spread. Se vi ricordate a giugno del 2012 c'era la famosa Italia-Germania col gol di Balotelli e cose di questo tipo e Grande Monti che con tutti i suoi giornali inchinati al suo servizio quando aveva fatto passare l'utilizzo dei fondi salva stati come scudo anti spread veniva fatto passare come la vittoria della Germania insieme con quelli di Balotelli, dell'Italia verso la Germania come i gol di Balotelli. ora ovviamente un mese dopo lo spread era sopra 500 tutto saltava per aria fino a che non è arrivato Draghi che ha detto no, stop we will do whatever it takes to save the euro and believe me if we'll be enough. Basta quello gratis tre parole whatever it takes non 50 miliardi 60 miliardi 130 mille mille miliardi di fondi salva stati tre parole quindi il debito pubblico è un problema? Non è un problema. e quindi piantiamola di parlare del debito pubblico io quando sento gente intelligente che dice il debito pubblico mi girano le scatole l'Irlanda era il minimo di debito pubblico la Spagna di debito pubblico non ne aveva quindi il Giappone al 250% di debito pubblico e il debito è a zero l'Inghilterra aveva un'industria assolutamente totalmente sbagliata per la crisi del 2008 non è mai 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 salito di un centesimo il rendimento dei suoi titoli sentite voi qualcosa dello spread dell'Inghilterra no che non esiste non c'è eppure capita nel 2008 qualche piccolo problema c'era l'Inghilterra era messa molto peggio di noi perché aveva un'industria finanziaria nel mezzo di una crisi finanziaria che è come essere un macellaio quando c'è la mucca pazza la gente non compra il tuo prodotto e quindi tu hai seri problemi era il problema del debito pubblico inglese è mai emerso no non è mai emerso quindi scusate piantiamola di dire scemenze del tipo non onoriamo il debito pubblico lo rischeduliamo lo allunghiamo lo rifacciamo così questo tipo queste sono idiozie eh chiaro indipendentemente da chi le dice via il debito pubblico corruzione casta stipendi dei parlamentari costi della politica cose di questo tipo enormi stronzate scusate il francese ma dico ma in questo momento la gente chi ha una fabbrica e chi non sta vendendo il suo prodotto ma se noi aboliamo con la TNT tutti i politici in questo momento voi compresi lui in particolar modo lo aboliamo boom abbiamo Sibilia ma ma cosa credete che vendono un prodotto in più ma neanche uno ne vendono in più anzi probabilmente ne venderanno uno in meno di quello del politico che andava a prendere che ne so del panino qua fuori cioè cosi di questo tipo la mozzarella nulla quindi stiamo parlando di niente casta corruzione cosi di questo tipo nulla non risolve niente è un problema per questo sto dicendo che dobbiamo tenerci la corruzione no così come non vi dico che bisogna tenersi gli omicidi semplicemente non c'entra nulla non sto giustificando queste cose non sto dicendo che ci vogliono più costi della politica o che ci vuole più corruzione se si potesse prendere tutti i corrotti e sbatterli in galera direttamente per sempre con la palla di ferro io sono contento e spero che la magistratura e la polizia lo facciano con una serie con una certa serie di priorità ma perché è un crimine non perché è una causa della crisi e quindi è come con gli omicidi e come con i furti è una cosa non buona non da fare ma non c'entra un cavolo con la causa della crisi quindi carta corruzione cosa e questo tipo basta via non ne parliamo sono sono reati quando io sento il decreto anticorruzione ma mi fa ridere ma come dire il decreto anti omicidi ma che cacchio vuol dire allora via questo spesa pubblica improduttiva mi cascano le braccia perché che sia possibile fare meglio di qualcosa di quello che si fa e così via è evidente chiunque abbia anche qui un paio di sensi prima per quale ne bastava uno qui ne bastano due capisce che è possibile spendere un pochettino meglio qui in Italia però dobbiamo stamparci in testa che in un momento così se noi riduciamo la quantità della spesa qualsiasi andiamo più in recessione ci ha detto Galloni andiamo più in recessione non andiamo in crescita se noi tagliamo la spesa quale che essa sia anche la più fetida anche la più fetente questa spesa che finisce da qualche parte da qualcuno che probabilmente non lo merita perché se è fetente significa che sta andando a qualcuno che non la merita però questo soggetto immeritato immeritevole una volta che ha ricevuto la sua porzione di spesa pubblica improduttiva va a comprare qualcosa in qualche negozio e il negoziante onesto preciso vende un prodotto in più se noi tagliamo l'immeritevole in questo momento abbiamo un negoziante in meno che vende qualcosa bisogna quindi mantenere la spesa no è evidente che dobbiamo cercare di qualificarla è evidente dalla mattina alla sera dobbiamo pensare di andare a chi che i soldi un centesimo che esce dalle casse dello Stato vada a chi lo merita non a chi ruba o a chi non fa niente o a chi a guardare stelle se io prendo una persona a fare un cavolo e invece prendo un ricercatore forse forse sto facendo migliore 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 impiego del mio denaro ma non posso pensare di ridurre la quantità della spesa e di risolvere qualcosa non risolvo nulla ok se io sono in recessione devo spendere di più o devo abbassare le tasse a le tasse la ridistribuzione l'inequalità e cose di questo tipo enorme scemenza perché se io non sto funzionando come economia in generale cioè l'economia in generale si impoverisce non è che se io prendo un po' di più in quello che in questo momento per motivi suoi può essere che sia più spregiudicato o più bravo o più meritevole o perché li ha ereditati non so mi invento qualcosa e do qualcosa a qualcun altro a parte che la piramide è sempre strettissima e prendere anche se prendo tutti i soldi di quelli che stanno al vertice della piramide poi dopo riesco a dare le briciole a quelli che stanno alla base della piramide quindi anche supponendo di espropriare tutti facciamo l'esproprio proletario non succede un cavolo ma in ogni caso se io anche prendo e aumento penso di ridurre la disuguaglianza le cose è una cosa più giusta ma non sto migliorando la nostra economia sto mischiando le cabine della prima classe della terza classe del Titanic prendo uno che è in terza classe lo porto in prima classe anche supponendo di fare l'esproprio proletario siamo tutti contenti e poi la nave affonda uguale e quindi tu anzi ci rimani un po' peggio perché dici affondare dalla terza classe va bene ero già abituato a stare un po' nella palta invece mi ero appena abituato a stare un pochettino meglio guarda te invece mi devo ficcare sott'acqua l'ineguaglianza la distribuzione di ricchezza tra l'altro così è sempre per dire tante idiottie che si sentono la distribuzione di ricchezza dell'Italia è tra le più regolari del mondo occidentale quindi quelle cavolate che si dice il 10% c'è il 40% e certo è una distribuzione normale è ovvio qualcuno c'è di più qualcuno c'è di meno ma è normale non siamo in unione sovietica però fatto sta che la distribuzione di ricchezza è fra le più uguali del mondo occidentale i dati sono tutti lì da vedere nel caso ve li do ma in ogni caso ripeto ma perché? ma per un motivo molto banale perché la ricchezza principale è la casa dato che in Italia c'è la più grande distribuzione di proprietà di prima casa e non a caso sono andati lì a rapinare i soldi con l'IMU giustamente quando c'era bisogno è ovvio che la distribuzione della ricchezza è fra le più uguali perché quasi tutti hanno una casa e la casa è la maggior parte poi dopo del risparmio quindi questo è allora a questo punto dopo che abbiamo finito di pensare a queste scemenze andiamo a pensare di qual è il problema il problema purtroppo è l'euro il problema è l'euro perché? perché nel momento stesso in cui noi siamo il cambio su economie che hanno differenti forze differenti velocità per qualsiasi motivo non è che noi siamo più poveri più brutti strutturalmente più stupidi della Germania semplicemente il mondo è fatto di persone differenti il mondo è fatto di economie differenti ci sono storie differenti e ci sono periodi differenti dove va più di moda qualcosa più di un altro prima vi ho accennato all'Inghilterra è quale esempio migliore chi potrebbe mai dire che l'Inghilterra è debole però nel 2008 l'Inghilterra era molto debole perché la sua industria principale era sotto attacco diretto se l'Inghilterra avesse avuto l'euro sarebbe saltata in per prima prima di tutti prima di noi prima degli altri invece guarda caso ha avuto la possibilità di mettere in gioco delle politiche anticicliche ha avuto la possibilità di sostenere tutta la sua industria finanziaria prima che la stasse scatenando il panico totale e dove si è scaricato poi dopo questo suo sostegno? nella sterlina la sterlina la gente non avendo da vendere i titoli perché anche se li vendeva li comprava la banca strada inglese e quindi non succedeva nulla dal punto di vista dei tassi di interesse in inghilterra questi questi denari entrati in circolazione dalla banca centrale inglese dall'acquisto dei titoli poi dopo finivano che cosa? sulla vendita del cambio perché è evidente che se io sono un estero e vendo un titolo di stato inglese perché ho paura dico oddio oddio c'hanno un'industria finanziaria oppure un'obbligazione inglese allora che cosa succede? succede che queste sterline rimangono in mano a chi ha venduto il titolo no? perché la gente pensa sempre che il mercato secondario sia chiuso ma non ho capito ma svegliamoci c'è o all'Inghilterra o fuori all'Inghilterra i soldi vanno a chi vende il titolo e questo serve anche per gombrare tante idee sulla proprietà della moneta ogni tanto si sentono delle teorie i soldi sono di chi ce l'ha in mano eh? quindi evitiamo cose la proprietà della moneta no? anche lì ci distrae quindi i soldi sono di chi l'ha in mano se io avevo un titolo inglese ho venduto un titolo inglese perché dico caspita c'è la Lehman io incasso delle sterline delle sterline non so cosa farmene me le vendo sul mercato per comprare i miei euro o comprare i miei dollari rimangono poi dopo le sterline sul mercato scende il cambio della sterlina e la speculazione si ferma lì scende del 30% il cambio della sterlina con fronti dell'euro con fronti del dollaro l'Inghilterra manco se ne accorge o quantomeno se ne accorge sì perché ovviamente ha avuto momenti difficili ma è in piedi può tranquillamente mettere in atto politiche anticicliche e adesso sono in ripresa noi siamo in ginocchio quindi nel momento stesso in cui noi perdiamo la possibilità per qualsiasi motivo di adeguare o di reagire a uno shock quale che esso sia o di riuscire a contrastare una perdita di competitività che può essere o perché siamo più scarsi noi o perché quegli altri fanno delle politiche concorrenziali cosa che è la verità perché i nostri concorrenti fanno delle politiche sleali o cose di questo tipo non importa cioè a un certo punto io non sto a guardare la produttività com'è perché noi siamo meno bravi dei tedeschi perché loro sono più bravi a contrarre i salari non è il mio mestiere noto che ci sono degli squilibri questi squilibri normalmente vengono sanati col cambio se il cambio non riesce a sanare lo squilibrio il risultato è che il paese va fuori competitività perché il cambio è il listo prezzi di un paese quindi tutti i prodotti che noi in Italia facciamo e che sono così graditi potenzialmente in tutto il mondo per tutto il mondo sono prezzati secondo il nostro listino prezzi che è espresso in euro o nella nostra valuta se per qualsiasi motivo inflazione interna difficoltà nostre le tasse pubblica istruzione scadente qualsiasi motivo noi andiamo indietro come competitività i nostri costi aumentano il risultato è che tra un altro prodotto prodotto da qualche altra parte e il nostro la gente prenderà quell'altro e non abbiamo modo di aggiustarci allora che cosa succede perché è una cosa fantastica nel momento stesso in cui noi ci troviamo una moneta sbagliata per la nostra moneta siamo riusciti a fare l'unicum c'è proprio una cosa che non è mai successa in generale nel mondo perché quantomeno per uno stato è successa per delle regioni e noi dovremmo saperlo con il nostro d'Italia perché se io ho una moneta troppo forte ed è artificialmente troppo forte perché qui è il punto normalmente uno stato forte ha una valuta forte e bassa disoccupazione perché la valuta diventa forte così per l'anima del santo la valuta diventa forte perché quello stato lì esporta tantissimo se lo stato esporta molto a quel punto la gente deve comprare la valuta di questo stato vende la propria valuta per comprare i prodotti di questo stato sale la valuta dello stato che esporta e a quel punto cosa succede? succede che tutti i prodotti di questo stato forte cominciano a diventare più cari e allora cosa succede? tu che eri stato un po' più sfortunato un po' più debole e cose di questo tipo invece i tuoi prodotti diventano concorrenziali perché costano di meno e hanno un mercato ecco noi siamo riusciti invece a creare una situazione in cui abbiamo lo stato debole con la valuta forte e quanto più lo stato è debole quanto prima salta perché non siamo l'Italia in questa situazione guardate la Grecia era lo stato più debole è saltato la Spagna peggio di noi il Portogallo peggio di noi alla fine tutti i stati che hanno una moneta sbagliata rispetto a quella che sarebbe la loro valuta corretta e si trovano tutti i loro prodotti fuori mercato ma fuori mercato sia per l'esterno quindi per il compratore esterno che poi dopo trova troppo caro comprare la Fiat troppo caro comprare il vino italiano troppo caro comprare qualsiasi cosa prodotta in Italia tranne le cose pochissime fuori mercato cioè senza sensibilità al prezzo cioè la Ferrari può anche essere fuori prezzo del 20% ma tanto qualcuno che la compra la si trova sempre ma non è che si può produrre solo Ferrari tutto il resto invece è sensibilissimo al prezzo ma cosa succede? succede che anche internamente per chi è in Italia diventa molto più conveniente comprare un prodotto estero e certo abbiamo una moneta forte gli altri sono deboli dove andiamo in vacanza? Santo Domingo dove andiamo in vacanza? Marocco questo tipo oppure piuttosto in Francia tanto sono stato a Parigi costava come a Milano sono stato a Berlino costava poco guardano le cose sono stato a Berlino e le cose costavano poco incredibilmente strano ma anche le case no? benissimo allora noi con la nostra valuta forte andiamo a comprare le cose andiamo all'estero e andiamo a comprare cose all'estero se tu ti dico ma c'è di male bellissimo andare all'estero bellissimo comprare le cose all'estero bellissimo avere tanta scelta certo quello che dico sempre è che le cose prodotte all'estero hanno una fastidiosa caratteristica sono prodotte all'estero e quindi e quindi e quindi purtroppo chiunque conscio di questa cosa poi dica c'è la disoccupazione mi sta pigliando in giro perché o non sei conscio di come gira il mondo o altrimenti se appena un'idea del perché gira il mondo così e dici benissimo abbiamo una moneta artificialmente forte e quindi è gioco forza avere disoccupazione basta non può non avvenire ciò e posso io in questa situazione perché poi questa è l'altra fallaccia dire eh ma io cosa faccio sistemo aggiungo spesa non rispetto i trattati spendo oltre il 4% eh ma purtroppo cari miei scusate io odio le slide ma allora questi questa era la bilancia dei pagamenti prima dell'euro no allora vedete che qui no l'Italia segnata in verde nel 92 svalutò e si diceva oh disastro no prima che di svalutare no non possiamo uscire dallo smè perché era una specie di eurino non possiamo uscire dallo smè era un disastro allora esce dallo smè e la bilancia dei pagamenti va in positivo poi qui ci rifissano il cambio no e infatti cominciamo a andare guardate qua la Germania no qua tutta la corruzione evidentemente ci aveva evidentemente ci aveva il debito pubblico la che asta no così questo tipo la Germania in negativo perché perché da una parte importava di più perché stava facendo la riunificazione diciamo così dall'altra parte semplicemente perché il suo marco era forte e quindi i suoi prodotti costavano tanto e se vi ricordate all'epoca comprano a BMW era una cosa da signori adesso sono solo quelle allora dopo dopo cosa succede succede che questo ho evidenziato l'euro cartaceo vuol dire poco comunque va bene comunque dopo si vede che la bilancia dei pagamenti per la Germania esplode quindi significa che sta esportando tantissimo di più rispetto a quello che importa ma la sua moneta non sale più magicamente non sale più perché non ha più la sua moneta noi invece o tutti gli altri guardate vabbè io ho evidenziato l'Italia ok che va in deficit ma guardate il disastro degli altri guardate la Spagna la Spagna questi sono valori assoluti non sono valori su pila o così questo tipo la Spagna che è più piccola di noi va a 144 miliardi all'anno di deficit del current account quindi stiamo dicendo una cosa che è totalmente insostenibile allora cosa succede? com'è che si sosteneva scusate se uno va in deficit però dice perché non è saltato subito e beh perché gli prestano dei soldi se tu vai in deficit puoi pagare a debito a debito privato ti indebiti fai il mutuo fai il mutuo la tua banca a sua volta la banca spagnola a sua volta prende i soldi dalla banca tedesca ed è facile prendere a prestito i soldi perché i tassi sono bassi e così via perché a quel punto tu diventi un debitore affidabile su Spagna certo sei in euro non puoi più restituirgli le pesette il risultato prendi tutti i soldi che puoi prendi tutti i soldi che puoi e questa qui è la situazione in cui le bilance ci sono già valute sbagliate ma sono compensate dal debito una volta che finisce il debito il sistema salta come un tappo di champagne il debito nel 2008 le banche tedesche hanno detto no rientriamo dai nostri crediti il risultato salta tutto perché? perché uno non può molto banalmente tirarsi fuori i soldi dalla pompetta in casa quindi se tu spendi di più per comprare prodotti esteri rispetto a quelli che come si chiama che riesci tu a esportare vai in deficit e te lo devi in ogni caso procurare in qualche modo questo denaro che avanza e allora cosa succede? se noi paradossalmente dato che in questo momento la nostra valuta è molto sbagliata riuscissimo con una magia perché spendiamo di più perché ci dicono di dire vai tranquillo abbasso le tasse taglio le spese così questo no aumento le spese abbasso le tasse facciamo quello che che vogliamo dal punto di vista di deficit di bilancio e la gente molto banalmente comprerà prodotti esteri e quindi questo deficit che adesso è stato pareggiato con l'austerità criminale perché ci hanno detto benissimo allora per evitare questo fatto se noi guardassimo adesso questi numeri sono in pareggio e certo ci hanno abbattuto la domanda interna a furia di tasse non consumiamo più e quindi automaticamente non importiamo nemmeno più e allora la cosa è stata pareggiata ma se noi avessimo ancora soldi in tasca per un qualche motivo compreremmo prodotti esteri e chi ce li mette questi soldi ancora debito ma no non ce lo fanno più non ce lo concedono più e quindi non starebbe in piedi la cosa per cui cari miei la situazione adesso è abbastanza semplice noi non possiamo pensare di distribuire denaro aggiuntivo non possiamo pensare di risolvere il problema tagliando le tasse non possiamo pensare di risolvere il problema aumentando le spese dobbiamo affrontare di petto l'euro perché in questo momento la nostra moneta è sbagliata 20% 30% diciamo quello che vogliamo la percentuale che noi abbiamo in mente nel momento stesso in cui domani dovessimo uscire dall'euro e svaluteremmo sicuramente nei confronti dell'euro attuale quella percentuale che noi abbiamo in mente che sarebbe la nostra svalutazione è quanto è sbagliata la nostra moneta quella percentuale di errore non consente l'attività economica su larga scala a questo poi ci aggiungiamo che ovviamente per riuscire a stare in piedi e così via ci sottopongono perché con l'euro viene nel pacco dono tutta una serie di altre fregature quali punto fiscal comp così questo tipo tassazioni assurde pareggio di bilancio se tolgo una tassa la devo mettere a un'altra e così questo tipo il risultato che quindi abbiamo un'azienda che già parte con un listino prezzi sbagliato derivante dalla meta non ha credito perché le banche non glielo fanno più perché una banca non è scema la banca non dà soldi se pensa che ci si perderà e dato che è un'economia che non cresce quando uno arriva in banca a chiedere a chiedere un finanziamento viene visto male perché di questi sono perdi sono perdi quindi non riesce a fare credito non riesce ad ottenere credito il tuo imprenditore ed è stratassato per riuscire a tenere in piedi tutta una serie di adempimenti europei come faccia uno ancora a vendere qualche prodotto con questa situazione non lo so e quelli che ancora ci riescono non ci riusciranno ancora a lungo più disoccupati più suicidi più gente disperata e così via e un'impresa quando è chiusa è chiusa poi dopo quando riusciremo a sistemare questa cosa rimettere in piedi e ricucinare tutto sarà tripla fatica perché un'impresa se è ancora in piedi riparte se è chiusa è chiusa dice ma l'euro non fa niente produzione industriale Italia-Germania no? ok quindi io avrei anche le slide da farvi vedere il petrolio le cose per i mutui per i contratti che poi dopo sono tutte le obiezioni ma non ve le faccio vedere perché queste sono technicalities prima bisogna capire che bisogna uscire ieri dall'euro le altre possibilità sono trasferimenti interi le altre due possibilità sono trasferimenti interi vale a dire la Germania ci paga e non lo vogliamo io non voglio essere pagato da nessuno penso che anche voi non lo vogliate e tanto in primo luogo non lo voglia la Germania quindi cavolino il problema non si può trasferimenti interi o altrimenti deflazione salariale quindi tutti per diventare competitivi tagliamoci tutto abbiamo visto che è quello che ci vogliono fare perché vedete questi sono i grafici che dovrebbero farvi riflettere guarda come sono bravi vedete come scende il costo del lavoro nei paesi che noi stiamo curando mentre invece guarda quello lì cattivo che è l'Italia che continua a non aver ancora capito come bisogna fare diamogli un po' più di batone quindi quello lì è quello che porteranno e sapete benissimo che la deflazione anche per i motivi che vi ha detto Galloni non serve e non va da nessuna parte quindi non è una strada percorribile né una strada desiderabile per cui deflazione no trasferimenti interni no io altre idee non ne vedo dobbiamo uscire dall'euro adesso e se e deve essere una cosa che informerà ogni giorno della vostra vita per cui io mi girano un po' le scatole ogni tanto quando vedo degli atteggiamenti dilatori oppure quando si parla di referendum e cose di questo tipo allora bisogna deve partire una qualsiasi tipo di proposta che deve essere chiara e non subordinata perché non si sottopone al referendum la libertà non si sottopone al referendum la vita delle persone quelle sono cose non negoziabili allora a quel punto uno dice io voglio vedere e questo ogni volta che parlo con qualche politico non è che lo dico a voi perché voi siete già avanti invece c'è delle altre persone che invece si ostinano neanche a vederle queste cose quindi figurati quindi io voglio vedere che parte una proposta precisa e a questo punto le possibilità sono solo tre o la proposta non parte ed è colpa di chi non l'ha fatta partire o la proposta parte e viene approvata e allora quel punto significa che ogni persona parlerà solo di questo perché viene accettata oppure la proposta parte e viene bocciata e ognuno se ne assume le proprie responsabilità ringrazio ringrazio ancora il professor Borghi per la sua relazione e la sua diciamo lista di priorità è chiaro che mi sento mi sento di dire che forse c'è qualche diciamo che politicamente io farei qualche scelta diversa dentro le priorità perché per quanto mi riguarda potrebbe anche essere vero insomma visto che abbiamo dei dati che lo supportano che il problema potrebbe essere l'euro però una forse una delle condizioni che sta a mote perché la nostra rivoluzione non è una rivoluzione economica cioè il Movimento 5 Stelle non vuole fare la rivoluzione economica vuole fare una rivoluzione culturale in prima linea vuole restituire la scelta ai cittadini in qualche modo quindi forse quindi forse forse la priorità vera è capire chi ci ha fatto entrare nell'euro e quindi se prima giustamente diciamo non facciamo saltare in piedi la cassa magari è la cassa stessa che ha fatto questa scelta che è la stessa che poi ci mette il debit pubblico il fiscal compact il mess e accetta tutto questo genere di situazioni quindi forse è vero ma io non vorrei mai far saltare in aria nessuno però voglio dire forse sarebbe necessario quantomeno interrogare su chi fa le scelte e quindi speriamo che in futuro la classe politica sia la parte onesta del paese che faccia le scelte in favore dei cittadini e non li conduca a queste situazioni qui e poi comunque se ci facessero saltare a noi nel Movimento 5 Stelle comunque avrebbero fatto un errore economico perché noi facciamo risparmiare il 50% dei nostri stipendi ai cittadini quindi saremmo quelli meno adatti da far saltare in aria in ogni caso io ringrazio il professor Borghi e volevo sottolineare anche il concetto secondo me molto importante che hanno stressato sia lui che il professor Galloni cioè la difficoltà enorme delle PMI ed è per questo forse che alle volte anche se effettivamente mi rendo conto potrebbe essere considerato un palliativo però alcuni costi che potrebbero essere effettivamente i nostri stipendi stellari da 14 mila euro al mese se venissero tagliati almeno del 50% li potremmo come minimo come esempio iniziare a dare a quello che è il fondo per le piccole e medie imprese che sono la vera ossatura economica del nostro paese ed è quello che noi faremo proprio domani restituendo 1 milione e 500 mila euro alle piccole e medie imprese dei nostri soldi questo magari speriamo lo facciano anche tutti gli altri deputati della Repubblica magari creeremmo un gettito per le piccole e medie imprese l'ultimo intervento è quello del professore Emiliano Brancaccio dell'Università del Sannio che parlerà delle modalità alternative di uscita dall'eurozona grazie prima dell'intervento vi chiedo se potete prepararvi velocemente qualche domanda perché cercheremo di rispondere a qualcosa ovviamente stando nei limiti dei tempi se ci sarà la possibilità grazie 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 per l'invito il problema è l'euro il problema è l'euro il problema è l'euro ma qui bisogna essere più precisi secondo me il problema è l'euro come immagine di un rapporto sociale di produzione di un rapporto di potere e qui bisogna essere più chiari e più precisi su cosa è l'euro per quanto riguarda l'idea che il Movimento 5 Stelle voglia fare una rivoluzione culturale piuttosto che una rivoluzione economica secondo me le due cose o si tengono insieme oppure no quindi diciamo sono come dire parzialmente d'accordo con Borghi purché ci si accordi sul fatto che si sta parlando di rapporti di produzione rapporti sociali di produzione come dicevo un vecchio con la barba e di rapporti di potere io sono lieto di essere oggi vostro ospite lo sono tra l'altro per un motivo perché l'invito viene da una rappresentanza del Parlamento italiano e io sono tra per quel che può valere naturalmente io sono tra coloro i quali ritengono che oggi più che mai oggi più che mai nell'assetto istituzionale del nostro Paese la centralità del Parlamento nazionale debba essere salvaguardata il mio auspicio che io spero di poter condividere con voi oggi e in futuro è che la nostra rimanga una Repubblica parlamentare e che sia ricacciata indietro ogni tentazione più o meno surrettiziamente plebiscitaria io credo che chi oggi intenda sfruttare la crisi europea per assecondare una svolta di tipo surrettiziamente presidenzialista secondo me non punta a rendere più moderno questo Paese punta solo a restringere ulteriormente il perimetro già molto risicato già molto risicato della dialettica democratica e voi ne sapete qualcosa mi risulta voi già ne sapete qualcosa detto questo io credo che il tema che noi oggi affrontiamo sarà decisivo per le sorti della battaglia politica in questo Paese io intendiamoci a differenza di altri io non credo di essere un grande esperto di battaglia politica di questioni politiche lo confesso tuttavia ho il vago sospetto da profano che il tempo in cui la battaglia del consenso si poteva giocare su questioni come i rimborsi elettorali tanto per dirne una ecco io credo che quel tempo sia finito e credo che oggi la partita si giochi sempre di più sulle condizioni materiali di lavoro e di vita di larghissime fasce della popolazione quindi sui redditi sull'occupazione sulle insolvenze delle imprese e quindi sull'avere o meno una idea una idea precisa della politica economica nazionale ed allora la possibilità o meno di avere una idea precisa della politica economica nazionale al giorno d'oggi significa in primo luogo una cosa significa decidere se allinearsi o meno alla seguente dichiarazione che già è stata citata ho un messaggio per voi nell'ambito del nostro mandato la banca centrale europea è pronta a fare tutto ciò che è necessario per preservare l'euro e credetemi sarà sufficiente ora noi stiamo discutendo qui perché lui ha detto questa frase perché probabilmente altrimenti questo amabile consesso sarebbe super allora la tesi di Draghi qual è? la tesi di Draghi è che la banca centrale proteggerà i paesi in difficoltà a causa degli attacchi speculativi a causa delle vendite sui mercati finanziari in cambio tuttavia i paesi in difficoltà dovranno fare i cosiddetti compiti a casa dovranno realizzare le politiche di austerity e le cosiddette riforme strutturali in questo modo la tesi di Draghi è questa risaneranno i bilanci diventeranno più competitivi e torneranno a crescere in questo modo la fiducia sulla sostenibilità dei loro debiti ritornerà e quindi questi paesi non avranno più bisogno dell'aiuto della banca centrale europea adesso vi aiuto voi fate i compiti a casa diventate grandi e io vi posso lasciare senza problemi questa è l'idea ora il problema politico il vostro problema politico in fondo è semplice potete credergli cioè voi potete davvero ritenere che l'impegno della banca centrale europea sotto queste condizioni per salvare l'eurozona sarà sufficiente bene voi sapete che per quel che possono valere perché io credo che gli economisti nel dibattito politico non valgano molto ma comunque per quel che possono valere voi sapete che premi Nobel nonché alcune istituzioni internazionali lo stesso fondo monetario internazionale sono scettici sono scettici a questo riguardo ecco io qui porto alla vostra attenzione un documento che è stato pubblicato poche settimane fa sul Financial Times è un documento che personalmente ho avuto il privilegio di promuovere e che è stato sottoscritto da alcuni tra i principali esponenti della comunità accademica internazionale Danny Rodrik Alan Kierman Tony Tierwall e molti altri ebbene questi economisti hanno sostanzialmente dichiarato che Draghi si sbaglia che l'impegno della Banca Centrale Europea per salvare l'euro non è sufficiente non lo è perché la politica che la BCE chiede in cambio del suo impegno non risana le economie dei paesi in difficoltà ma le deteriora ulteriormente e l'eurozona quindi questa è la tesi l'eurozona è destinata ad implodere per quale motivo questi economisti arrivano a formulare una previsione così netta sulla deflagrazione dell'eurozona il motivo essenzialmente si chiama divergenza le divergenze e le divaricazioni tra le economie dei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea sono ormai diventate di proporzioni colossali sono ormai tali da non avere precedenti storici in epoca di pace ed inoltre come vedremo le politiche economiche che i governi europei stanno realizzando non riducono queste divergenze ma per certi versi tendono ad accentuare vediamo in primo luogo l'andamento del prodotto interno l'urdo come potete notare tra il 2008 e il 2013 si registrano andamenti altamente divaricati tra i paesi dell'eurozona pur nella crisi pur nella crisi iniziata nel 2008 la Germania fa registrare il risultato migliore con una crescita del 2,87% l'Italia segna una caduta pesantissima del 7% e chiude la classifica la Grecia con un tracollo addirittura del 23% per quanto riguarda l'occupazione tra il 2008 e il 2013 mentre la Germania faceva registrare un aumento di circa un milione e mezzo di occupati nello stesso periodo l'Italia perdeva quasi un milione di posti di lavoro la Grecia l'Irlanda la Spagna e il Portogallo ne perdevano assieme altri 5 milioni si tratta di una forbice gigantesca ma forse forse il dato politicamente politicamente più impressionante e più interessante rispetto a questi è il dato sulle insolvenze delle imprese tra il 2008 e il 2012 mentre la Spagna il Portogallo l'Irlanda l'Italia facevano registrare un boom delle insolvenze tra il 90 e il 200% la Germania al contrario vedeva ridursi le insolvenze del 3% gli aiechiani qui dicono che è un meccanismo di efficienza del sistema ecco l'irrazionalità del capitale sta anche nel fatto che qui si spara nel mucchio e cadono gli efficienti come gli inefficienti questo è un punto molto importante molto importante ora badate che questo dato sulle insolvenze è importante anche per le sue ripercussioni sui bilanci bancari perché vedete una forbice così accentuata tra gli andamenti del prodotto interno lordo e gli andamenti delle insolvenze delle imprese indica pure una crescente divaricazione tra i risultati di esercizio delle banche dei diversi paesi membri dell'eurozona ora a questo proposito il presidente del consiglio dei ministri e cui molti altri sostengono che proprio in virtù di queste divaricazioni per l'Italia e per gli altri paesi periferici dell'eurozona l'unica salvezza l'unica soluzione mi pare che ne abbiate avuto sentore in Parlamento sia di accelerare verso la cosiddetta unione bancaria ecco io non penso che le cose stiano esattamente in questi termini perché vedete qui non è chiaro a tutti che unione bancaria significa in primo luogo liquidazioni e ristrutturazioni bancarie allora io sul sole 24 ore qualche settimana fa personalmente da un po' di tempo sto cercando di richiamare l'attenzione sul fatto che con una forbice di queste proporzioni tra gli aramenti del prodotto interno lordo delle insolvenze delle imprese e dunque tra i redditi di esercizio delle banche l'Italia e gli altri paesi periferici arriverebbero all'appuntamento dell'unione bancaria in un ruolo alquanto scomodo quel di debitori in difficoltà costretti a liquidare le banche alle condizioni fissate da potenziali acquirenti esteri magari tedeschi io forse mi sbaglio ma vista in quest'ottica l'unione bancaria ma non è tanto una panacea piuttosto è una trappola è una trappola vedete io io sono meridionale non so se si è notato prima ha parlato Borg insomma con una inflessione suggestiva e interessante io sono meridionale sono napoletano ecco e noi meridionali abbiamo conosciuto gli effetti delle ristrutturazioni bancarie e del conseguente spostamento al nord della testa pensante del capitale una delle conseguenze di questo spostamento tra le tante una delle conseguenze di questo spostamento è che i depositi bancari del sud sono oggi impiegati in larga misura lontano dal sud ecco l'unione bancaria a queste condizioni rischia di riprodurre su scala europea fenomeni simili non a caso alcuni studiosi parlano di mezzogiornificazione dei paesi periferici dell'unione e di una correlata germanizzazione del capitale finanziario europeo e secondo me sono definizioni molto calzanti ecco io credo che la questione delle banche sia politicamente decisiva penso questo perché la crisi europea potrebbe precipitare sul piano politico proprio a seguito di una nuova crisi bancaria e di un tentativo di accelerazione dell'unione bancaria esattamente nei termini che ho appena descritto avere le idee chiare sulla questione per esempio sulla scelta tra liquidare le banche a favore di soggetti esteri oppure al contrario uscire dall'euro nazionalizzare le banche e renderle pubbliche può diverarsi decisivo per gli snodi futuri della crisi questo è importante io credo per due motivi primo perché fornisce un'opzione secondo perché chiarisce che in realtà la questione dell'uscita dall'euro a cascata si ricollega con la questione dei rapporti proprietari eh e questo io credo che debba essere sottolineato sempre sempre ecco a me sembra che a questo punto sia piuttosto chiara la divergenza in corso e le sue implicazioni gli economisti firmatari del documento pubblicato sul Financial Times fanno notare anche un'altra cosa dicevano le politiche dei paesi membri dell'eurozona non stanno contribuendo ad attenuare le divergenze le stanno accentuando si era già accennata questa cosa vediamo ancora ulteriormente prendiamo politiche di austerity ci dicevano che queste politiche avrebbero risanato i bilanci avrebbero ripristinato la fiducia avrebbero favorito la ripresa economica in realtà tra gli altri ormai lo stesso Fondo Monetario Internazionale sia pure tra qualche contraddizione ha riconosciuto che le cose non stanno andando esattamente in questi termini e ha e ha riesumato Keynes il problema ammette il Fondo Monetario Internazionale è che la BCE il fondo prende un po' le distanze la BCE la Commissione Europea e gli altri fautori dell'austerity hanno sottovalutato l'effetto dei cosiddetti moltiplicatori Keynesiani cioè di quel meccanismo Galloni ha accennato alla cosa per cui i tagli alla spesa pubblica e gli aumenti della tassazione deprimono a tal punto le possibilità di spesa da abbattere la produzione l'occupazione e i redditi in misura tale da rendere più difficili i rimborsi dei debiti non più facili più difficili tra i tanti esempi della sottovalutazione dei moltiplicatori Keynesiani noi possiamo prendere gli errori di previsione della Commissione Europea sul prodotto interno lordo dei paesi dell'Eurozona per esempio se prendiamo l'Italia rileviamo che negli ultimi tre anni la Commissione ha sistematicamente sopravvalutato l'andamento del prodotto interno lordo addirittura nel 2012 la sopravvalutazione è di 3,7 punti è un'enormità ma non è finita qui perché se guardiamo la Grecia il caso delle previsioni sulla Grecia lo studieremo penso per una trentina d'anni all'università interessantissimo l'errore di previsione arriva a 7,5 punti guardate un ubriacone un ubriacone con una passeggiata casuale tra i numeri noi economisti lo chiamiamo random walk non avrebbe commesso un errore così grande ora questo non significa evidentemente che dentro la Commissione Europea sono tutti particolarmente ubriachi significa che l'errore è distorto da un obiettivo pregiudiziale e penso che sia sufficiente dire questo senza aggiungere alcun contatto ovviamente voi capite l'implicazione politica l'implicazione politica è che con errori di previsione di queste proporzioni sul prodotto interno lordo saltano in aria anche le previsioni sulla sostenibilità dei debiti saltano in aria tutti i programmi di stabilità tutti i programmi nazionali di riforme contrattati in sede Europa vengono puntualmente smentiti il fatidico obiettivo del deficit sotto il 3% del prodotto interno lordo diventa una sorta di miraggio ecco voi immaginate il povero Saccomanni con una stazza considerevole una persona che evidentemente lo conosciamo ha anche una faccia simpatica una buona aria ecco voi immaginatelo che corre nel deserto che suda che pensa di avere agguantato il limite del 3% e invece l'obiettivo si allontana questa è la situazione ora in seno alla commissione alla banca centrale europea alle istituzioni europee come cercano di giustificarsi come cercano di dire di voler rimediare a questi errori di previsione ebbene un tentativo è quello di dire che in effetti con l'austerity si è un po' esagerato è di moda a Bruxelles con l'austerity abbiamo un po' esagerato che forse l'austerità va un pochino allentata e che ora bisogna puntare soprattutto sulle cosiddette riforme strutturali la nuova panacea è rappresentata dalle cosiddette riforme strutturali cosa si intende in sostanza per riforme strutturali principalmente una riforma ulteriore del mercato del lavoro che liberalizzi ulteriormente i contratti di lavoro l'idea in sostanza è che in una fase di crisi come questa una ulteriore flessibilità dei contratti di lavoro consente di licenziare più agevolmente consente di ridurre ulteriormente i salari permette quindi di ridurre i costi e i prezzi e dunque consente di aumentare la competitività del paese il paese in questo modo cresce di più e dovrebbe dunque riuscire a rimborsare i suoi debiti questa è la tesi il problema il problema è che la deflazione relativa dei salari cioè in parole povere la gara al ribasso dei salari relativi in Europa c'è già stata e ha già avuto il suo vincitore la Germania il paese più forte del periodo si è caratterizzata negli anni dell'euro per una crescita dei salari monetari di circa 15 punti percentuali al di sotto della media europea e per una crescita pressoché nulla del salario reale cioè del potere d'acquisto dei salari di circa 5 punti al di sotto della media europea se qualcuno pensa pensava che la deflazione relativa dei salari venisse solo da Cina ecco è meglio che riveda le proprie opinioni perché vedete quando parliamo di globalizzazione capitalistica in modo un po' come dire grossolano però dobbiamo capire che globalizzazione capitalistica significa concorrenza al ribasso guerra tra lavoratori che viene dal basso dalla Cina e dall'alto dalla Germania questa crescita così contenuta dei salari in Germania è uno dei fattori chiave che hanno permesso ai tedeschi di tenere il rapporto tra salario e produttività del lavoro detto anche costo unitario del lavoro molto al di sotto dei costi unitari del lavoro registrati negli altri paesi europei in particolare tra il 1999 e il 2013 rileviamo una divergenza di 27 punti percentuali tra i tassi di crescita del costo del lavoro in Italia e in Germania ancora una volta si tratta di un divario di competitività gigantesco senza precedenti un divario insostenibile se non si attua una svalutazione e e e e no non direi ecco chi dice che si può chi dice che si può colmare questo divario colossale a colpi di riforme del mercato del lavoro e di abbattimento dei salari dice il falso e questo non tanto per le tensioni sociali che ne scaturirebbero perché la questione di quante tensioni sociali ne scaturirebbero questo è un argomento aperto ma anche soprattutto perché una caduta dei salari e dei prezzi proporzioni tali da colmare questa divergenza determinerebbe un crollo del valore nominale dei redditi rispetto ai debiti cioè determinerebbe quella che Irving Fisher e John Maynard Keynes chiamavano deflazione da debiti e che diede luogo alla grande depressione degli anni 30 voi volete un esempio un esempio recente un esempio recente in parte è l'Irlanda l'Irlanda ha puntato subito immediatamente su una deflazione massiccia licenziamenti facilissimi perché lì sono facilissimi praticamente non esiste un diritto del lavoro in Irlanda schiacciamento dei salari per abbattere rapidamente il costo del lavoro unitario e i prezzi in modo da accrescere la competitività ecco il trend dei costi se ci fate caso descrive questo fenomeno la Irlanda è l'unica che in qualche modo se notate tenta di avvicinarsi alla linea più bassa che è la Germania però come potete notare in primo luogo il divario con la Germania resta molto grave ma soprattutto questa dinamica deflazionista ha contribuito al fallimento dell'Irlanda perché l'Irlanda è tecnicamente già fallita abbiamo salvata noi nel 2010 e nel 2011 con diverse decine di miliardi di euro questi sono gli effetti di una deflazione delle proporzioni che sarebbero necessarie per poter riequilibrare i costi di lavoro per unità di prodotto ed allora io credo che sulla base di queste evidenze diventi più chiaro il motivo per cui tanti studiosi di rango internazionale scommettono contro Draghi scommettono su una deflagrazione dell'eurozona nel monito degli economisti pubblicato sul Financial Times c'è tuttavia non solo una previsione sulla deflagrazione dell'unione monetaria c'è anche una dichiarazione finale che i firmatari del documento reputano importante di questo passo ai decisori politici non resta da altro che una scelta cruciale tra modalità alternative di uscita dall'euro ecco in cosa consiste questa scelta cruciale beh consiste nel fatto che la crisi della moneta unica europea potrebbe essere gestita sulla base qui dobbiamo parlare chiaro su questa questione potrebbe essere gestita sulla base di una opzione gattopardesca in perfetta continuità con l'impianto liberista e liberoscambista che ha dominato in questi anni e che a viso di molti studiosi ci ha condotti al disastro in cui versiamo questa uscita che io definisco gattopardesca dall'euro di stampo liberista e liberoscambista consiste essenzialmente nel lasciare che l'uscita dall'euro sia gestita sulla base del libero gioco delle forze del mercato per esempio sulla base di una libera e permanente fluttuazione delle valute sui mercati dei cambi e sul mantenimento a tutti i costi della libera circolazione dei capitali e delle merci ecco questa soluzione di uscita liberista e liberoscambista è quella allo stato dei fatti più probabile perché è quella che protegge gli interessi più forti e perché il liberismo e il liberoscambismo sono ancora ideologicamente pervasivi sono in crisi ma sono ideologicamente pervasivi guardate io riporto un esempio l'associazione degli imprenditori tedeschi l'ha detto più volte noi possiamo tranquillamente fare a meno della moneta unica ma non possiamo assolutamente fare a meno della libertà degli scambi sancita dal mercato unico europeo ecco il problema è che questa soluzione per l'Italia e per gli altri paesi per i perici dell'unione determinerebbe delle difficoltà per l'Italia e per i paesi periferici sarebbe meglio avanzare una soluzione alternativa che possiamo definire statuale e protezionista io vi riporto due esempi il primo esempio rinvia quello che Paul Krugman ha definito il problema dei fire sales ora qui c'è stata un po' di polemica tra gli economisti ma le polemiche degli economisti sono così contano poco allora cerchiamo di chiarirci questo è un punto importante il problema sta nel fatto che l'uscita dall'euro e la conseguente svalutazione del cambio determinano una caduta del valore dei capitali nazionali questa caduta può dare luogo a una serie di svendite a buon mercato questo significa fire sales del capitale nazionale a favore di acquirenti esteri in altre parole il rischio di mezzogiornificazione di germanizzazione europea uscito dalla porta potrebbe rientrare dalla finestra faccio presente faccio presente che questa possibilità non ha nulla a che fare con il fatto che le acquisizioni estere si stanno già realizzando è ovvio che si stanno già realizzando quale che sia però il volume di acquisizioni estere già realizzato immediatamente dopo la svaluzione questo volume potrebbe crescere ulteriormente e in misura estremamente significativa volete un esempio semplice è questo il rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca Italia e i dati di Ameco sull'andamento dei prezzi dei capitali ci dicono che negli ultimi cinque anni i prezzi degli immobili sono diminuiti in media del 10% i prezzi dei beni capitali sono diminuiti un po' meno del 10% ma questo è grossomodo l'ordine di grandezza una svalutazione per esempio potrebbe farli precipitare di un altro 20% in poche ore nel caso dei beni capitali lo scarto sarebbe ancora maggiore chiaro che questo determinerebbe un processo potenziale di acquisizioni estere e qui ancora una volta vedete che il problema è l'euro perché il problema è l'euro ma poi bisogna capire quali sono gli effetti sui rapporti proprietari ed allora naturalmente una soluzione esiste e basta chiarire una cosa semplice che credo che voi che siete mi risulta potrei sbagliarmi tendenzialmente protezionisti così mi era parso di sentire ma potete capirla abbastanza bene quando salta la moneta unica europea occorre mettere io mi rendo conto che qui c'è la necessità di distinguere tra moneta unica europea e mercato unico europeo tra eurozona e unione europea io sono d'accordo però questo è un punto importante quando salta la moneta unica europea le cose precipitano e quindi occorre mettere in discussione almeno in parte il mercato unico europeo tra l'altro con vincoli alle acquisizioni estere di capitale nazionale il secondo e ultimo esempio il secondo esempio l'effetto sui salari allora qui pure si è discusso tanto andrete a fare la spesa con le carriole di soldi perché ci sarà un'inflazione allora qui bisogna qui c'è un modo solo per poter affrontare questa questione si tratta di guardare la storia passata gli economisti hanno strumenti scientifici che sono fragili dal punto di vista epistemologico ma qualcosa la possono fare guardare la storia allora se guardiamo la storia passata in un lavoro che sto conducendo con la collega Nadia Garbellini dell'università di Pavia noi abbiamo selezionato 23 casi di uscita da un regime di cambi fissi con conseguente svalutazione quindi abbiamo preso tutti i casi di uscita da un regime di cambi fissi con conseguente svalutazione una svalutazione superiore una data soglia verificatesi tra il 1980 e il 2010 questi sono i paesi che hanno realizzato queste uscite da regime di cambi fissi l'eurozona nella sostanza è un regime particolarmente di cambi fissi ma essenzialmente si può ricondurre a quella a quella categoria sebbene con delle precisazioni abbiamo quindi distinto perché questo è necessario farlo tra paesi relativamente ad alto reddito e relativamente a basso reddito cioè nel senso che bisogna distinguere faccio un esempio tra l'uscita dell'Italia e il Guatemala ok? perché sono effetti significativamente diversi se ci concentriamo sui paesi ad alto reddito i risultati sui salari reali e sulle quote salari cioè sulla quota di reddito nazionale che spetta ai lavoratori sono i seguenti allora nell'anno dell'uscita a parità di altre condizioni si realizza una riduzione del salario di 4 punti percentuali dopodiché che cosa succede? che c'è un recupero che solitamente coincide con una parziale rivalutazione che porta dopo 5 anni ad un sostanziale recupero circa 1.7% più del valore che c'era prima della crisi ovviamente rispetto al trend che c'era prima dell'uscita la caduta è di 5,1 punti percentuali per quanto riguarda la quota salari la cosa è un po' diversa perché la quota salari comincia a cadere piano ma non recupera quindi continua a declinare fino a 5,2 punti percentuali con una riduzione rispetto al trend pre-crisi di 3,1 punti allora non è la carriola eh cominciamo a dire una cosa non è la carriola non è la carriola con diciamo che nella quale mettiamo i soldi per andare a fare la spesa quindi evitiamo di fare terrorismo tuttavia il problema esiste e dobbiamo affrontarlo e dobbiamo affrontarlo allora i sistemi ovviamente per proteggere i salari e le quote salari ovviamente esistono invertire le politiche di precarizzazione del lavoro mi risulta che nel vostro programma elettorale ci fosse l'abolizione della legge 30 mi pare di sì quindi invertire le politiche di precarizzazione del lavoro e introdurre meccanismi di indicizzazione dei salari rispetto ai prezzi e alla produttività quindi i meccanismi esistono e io credo però che a qui si debba aggiungere un fatto permettetemi una chiusura politica io ripeto non ne capisco niente di politica non mi azzardo però ragiono su una cosa io ho questa sensazione che Borghi può urlare quanto vuole che l'amico suo può urlare quanto vuole voglio dire però secondo me non è proprio esattamente così che diciamo si convince il popolo ecco io ho la sensazione ho la vaga vaga sensazione che chi riesce a rassicurare i lavoratori dipendenti spacca il sistema e crea una maggioranza anti-euro pensateci grazie dunque siamo giunti al termine io ringrazio naturalmente tutti i nostri redatori intervenuti un contributo fantastico spero e penso che questo video online avrà sicuramente molte visualizzazioni quindi avremo contribuito contribuito anche noi ad allargare la platea di informazione dare qualcosa effettivamente anche ai cittadini grazie ai sistemi di rete alla condivisione alla trasparenza continuate a farlo anche voi come lo faremo noi ovviamente dal nostro canale di youtube in questo momento diciamo che noi avremmo finito abbiamo anche terminato il tempo però cercheremo di prendere quattro massimo quattro domande quindi cerchiamo di essere quanto più democratici possibili insomma così vediamo se riusciamo ad organizzarci le facciamo così se riusciamo ad essere rapidissimi sia noi sia i nostri redatori cominciamo da qui prego se preme se preme lì allora la mia domanda è questa parliamo tutti di euro inteso o di ritorno alla sovranità monetaria inteso come moneta quanti di voi hanno preso in considerazione un aspetto tecnico che non può gestire la BCE in un territorio così grande come il nostro quali la Taylor Rule cioè il fatto che i tassi di interesse in Italia dovrebbero essere zero in Germania dovrebbero essere al 5 per ragionare in termini di livellamento della capacità produttiva che facciamo in questo modo per essere più facciamo così facciamo un giro tutte le domande in modo tale che vediamo quali siano più simili tra di loro ok una due prego allora io volevo fare una domanda indirizzata a tutti gli economisti ma forse in particolar modo al brancaccio che diciamo ha toccato più il tema se è possibile diciamo con esempi pratici accennare a che cosa realmente poi cambia nella vita diciamo del cittadino medio facendo anche degli scenari e per quanto tempo con diciamo un'uscita dall'euro e un ritorno alla per esempio alla lira perché prima si sono trattati sotto due temi svalutazione dei beni e svalutazione della quota salari che poi se mi viene definita scusate l'ignoranza sarebbe gradito però non credo che siamo questi siamo soltanto diciamo due concetti macro però se si può entrare proprio nel merito della vita del cittadino comune sì una domanda per Brancaccio lei prima ha citato la dichiarazione di Draghi su Theory Takes e sull'unione bancaria dall'anno prossimo ci saranno i stress test e io personalmente credo poi chiedo a lei conferma che molto probabilmente in questo ambito i titoli di Stato verranno considerati un rischio per le banche ecco questo la dice lunga sull'unione sulla condivisione dei debiti che è una monotopia e se ciò dovesse accadere sarebbe diciamo un profondis per l'eurozona brevemente una domanda per Galloni lei citava il fallimento delle politiche ad austerity siamo d'accordo però purtroppo credo che possa servire a due cose e cioè quella di deflazionare per un recupero crediti della Germania cioè con la deflazione i crediti tedeschi non perdono valore la Germania sta in questo momento facendo una sorta di recupero crediti e l'austerità in sé per sé funziona proprio come recupero crediti anche se è peggiore il debito pubblico grazie mi spiace mi spiace che andate al professor Borghi dopo tante affermazioni così indimostrate però credo che il professor Galloni possa darmi ugualmente una risposta la corte dei conti stima in 60 miliardi il costo della corruzione siamo agli ultimi posti delle classifiche per la corruzione o ai primi posti siamo agli ultimi posti quello è l'anticorruzione i primi posti della corruzione secondo come vogliamo mettere tra i paesi sviluppati in Italia è stata partorita alla fine del 2012 un'interessante legge la 190 sulla quale abbiamo svolto anche un incontro qui ospitato sempre dai parlamentari del Movimento 5 Stelle questa legge prevede al comma 14 dell'articolo 1 che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione nominato un dirigente nominato all'interno di ogni amministrazione debba pubblicare la relazione sull'attività svolta sul sito web istituzionale se andate a cercare oggi siamo al 16 dicembre non c'è niente su nessun sito salve qualche persona che io chiamo qualche fesso che ha fatto veramente qualche cosa contro la corruzione che succede? stringo su sì 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 arrivo immediatamente alla domanda perché non c'è niente? perché il 12 dicembre il ministro della funzione pubblica con una semplice nota circolare ha detto pregatevene della legge il 15 dicembre non lo rispettiamo non lo rispettiamo neanche il 2014 questa relazione sai quando la farete? la farete a gennaio del 2015 ora dico vengo alla questione dell'argomento in discussione siamo sicuri che oggi la priorità è l'uscita dall'euro o forse prima ci dobbiamo liberare di quell'acqua sporca di cui lei parlava professor Galloni perché se no tutto quello che abbiamo perso le occasioni che abbiamo perso quando siamo entrati all'euro le riperderemo una seconda volta con questa con questa con questa acqua sporca e aggiungo una seconda cosa rapida se avete valutato quali sono chi è infavorevole all'uscita dall'euro quali saranno i problemi e le conseguenze sui debiti privati contratti in euro grazie mille mi dovrete scusare ma veramente abbiamo terminato il ciclo di domande perché abbiamo veramente dieci minuti telegrafici per le risposte perché avevamo la sala alla fine di 19 ho capito l'affermazione della prima domanda non ho capito però la domanda quindi la domanda è ci pensi tu basta vado avanti il problema tutta la problematica debiti pubblici rischio banche eccetera i credit allora il problema è più politico cioè oggi la finanza sta dominando le banche io credo che questo sia l'altro aspetto l'altra faccia della medaglia dell'intervento di Piaccio siamo perfettamente d'accordo quindi in realtà se il fondo monetario se il fondo monetario scusate perché pensavo di andare se il fondo monetario internazionale dice che il 45% dei crediti bancari non sono non è esigibile non è esigibile bisogna vedere di che cosa stiamo parlando perché adesso in due parole se io rivaluto la teoria la teoria bancaria di Ludwig Albert Anna che condivido e anzi voglio scriverci su e praticamente non sono crediti inesigibili o domani sofferenze è mancato arricchimento oggi il margine operativo di una banca è il 90% se anche arriva il 45% su quell'altro 45% di l'ordo vogliamo che paghino le tasse però dobbiamo fare la riforma delle banche in funzione del bilanci ma la prima cosa da fare è fare la banca pubblica per quanto riguarda i debiti pubblici perché basta avere un po' di collaterale anche i crediti dello Stato che prima facciamo fallire Equitalia perché è buono e giusto poi dopo quei crediti e mettiamo collaterale ce lo facciamo garantire dall'agenzia di credito di rating che creiamo a San Marino e andiamo da Draghi e ci facciamo dare 700 miliardi meno lo 0,25 a regole date ovviamente è meglio per quello che abbiamo cercato di capire oggi uscire dall'euro quello che è il grande pericolo sono d'accordo con Brancaccio è il gatto partismo di quelli allora rispondo alla questione della corruzione perché c'entra col gatto partismo allora il materiale umano che cambierà questo paese abbatterà la corruzione uscirà dall'euro in modo non gatto partesco oppure sarà sconfitto ma sarà un materiale umano alternativo che potrà essere sconfitto o potrà vincere che cosa voglio dire voglio dire che il vecchio materiale umano che era connotato anche dalla corruzione e che nella fase della prima repubblica aveva creato un modello quasi sopportabile di corruzione non so se mi spiego scusate la bestemmia e quello invece corrente assolutamente non lo è dovrà essere sostituito da un materiale umano migliore e diverso e quindi il problema della corruzione si risolverà così o vinceremo e batteremo anche la corruzione contemporaneamente all'uscita dall'euro e un sistema di ripristino della sovranità monetaria e della democrazia oppure saremo sconfitti e saranno secoli bui al volo per la risposta tecnica tua allora per quanto riguarda il discorso di spread bisogna fare una considerazione come ho detto io l'euro non è una moneta ma un accordo di cambi fissi perché se fosse effettivamente una moneta quindi con un supporto anche di unione politica unione fiscale unione di tutto unione pure non lo so di che cosa gli spread non ci sarebbero la cosa che conforta quello che io dico che la stessa Banca d'Italia ha ripetuto più volte che il corretto spread è 200 ragazzi ma allora ci state dicendo che non è una moneta unica ce lo state dicendo fra l'altro vi do anche un piccolo sistemino molto empirico visto e considerate che io appartengo insieme a Claudio Borghi alla categoria di quelli che hanno fatto esperienza sul campo per molto tempo e poi dopo si sono ritrovati anche così a fare i docenti universitari essendo stato il direttore generale della capogruppo finanziaria dell'ENI che ricordo quando c'ero io era la più grande società finanziaria d'Europa non d'Italia e lo sai quanto sta oggi la lira? beh sono spread 2,20 2,30 praticamente la lira sta da quel 989,999 che vi ricordo nei confronti del marco del prezzo irrevocabile del primo gennaio 1999 sta di fatto i mercati lo dicono è un cross dicono che sta a 1,220 lire con il fatto che noi in questo momento ci ritorniamo ancora ancorati a 989,999 e non sfruttiamo la situazione perché tutte le tensioni si scaricano sui tassi quindi ce la prendiamo due volte in quel posto mentre invece la Germania anche lei ha il vantaggio perché sta ancora a 989 perché altrimenti starebbe almeno a 1,220 quindi doppia fregatura non so se avete capito quindi è la dimostrazione palese allo spread che l'euro non è una valuta ma un accordo di cambi fissi per chi non l'avesse ancora capito punto e basta il resto so chiacchiere allora velocissimamente sulla sulla Taylor Rule mi allora io è complicata la questione mi permetto soltanto di dirle che ci sono alcuni economisti che ritengono che la Taylor Rule sia proprio sbagliata nelle sue premesse teoriche cioè non sia realmente applicata e posso suggerirle perché credo che questo sia anche un luogo di studio oltre che di discussione un articolo che ho pubblicato recentemente sul Cambridge Journal of Economics e anche versioni divulgative del medesimo può trovarle sul mio sito per quanto riguarda cosa cambia la vita del cittadino certo allora per quel che può valere ovviamente una analisi fatta su regressioni statistiche quindi un'analisi del passato nel tentativo di fare un ragionamento sul futuro possiamo dire che l'eventuale uscita dall'euro non significherebbe andare a far la spesa con la carriola con i soldi cosa di cui si è detto ma che è sbagliata significherebbe stando ovviamente a questi dati che emergono che per esempio se lei guadagna mille euro al mese ecco in media quello che è successo guardando la storia passata dei regimi di cambi fissi è che l'uscita implicava una riduzione salariale che portava i salari a 950 euro al mese questa è grossomodo diciamo la dimensione che possiamo individuare quanto meno riguardo al passato quello che è importante capire è che ovviamente di fronte a questa eventualità per poter convincere chi guadagna appunto mille euro al mese o 800 700 600 che conviene uscire dal lengo vanno protetti vanno salvaguardati bisogna dirgli non ti preoccupare si esce si indicizzano i salari e quindi non ci saranno problemi e questo io credo che può avere delle ripercussioni politiche nella battaglia politica del consenso molto molto grande stress test stress test ma sugli stress test e sulla possibilità di considerare i titoli di Stato rischiosi i titoli di Stato dei paesi periferici rischiosi in realtà c'è già stata una battaglia in seno alle istituzioni europee per il momento ha vinto la linea come dire delle colombe se possiamo definirle così ecco io ho il sospetto che tra poco arrivano i falchi grazie abbiamo concluso abbiamo risposto tutte le domande che siamo riusciti a raccogliere se volete potete continuare magari la conversazione fuori da queste aule grazie 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 grazie